Le lasagne sono da vecchi, la pizza è peggio del sushi, soprattutto con l'ananas. Buonasera. 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 Nati. Mi sono anche messo la ferpa e mi sono distrutto i capelli. Allora, ragazzi, mi devo riprendere un attimo, perché... Barbatissimo, sì. Sì, hai visto, hai visto? Donna. Mi sono messo anche la ferpa chiusa, perché così devo patire per bene, proprio. Che bella fer... Eh, lo so. In realtà è viola, eh. Non è blu. È viola. È viola twitch, però sembra blu. Con questa luce qua sembra blu. Fammi sistemare la luce. Allora, buonasera. Buonasera. Sì, sono totalmente rincoglionito. Probabilmente perché ho fame. E l'odore che mi sovviene non è del migliore, praticamente. Allora, vediamo se... Esso, colui che... Perfetto. Sono io. Grazie. Eriza, Demirai. Buonasera. Se stasera la pizza all'Ananas le piacerà, toglieremo la sua cittadinanza italiana. Grazie mille, l'abbonamento. Vito. Ti senti? Ti sento. Ma te senti il mio cuore che palpita. Guarda, lascio anche la musica... Sì, faccela vedere, faccela vedere. Faccela vedere, faccela toccata. Allora, ce l'ho già qua. Dai. L'ho già tagliata perché ovviamente lo spazio qui è ridotto. È bella. Devo dire, si presenta bene. Io non la vedo ancora. Aspetta, aspetta. Pizza, bianca, cotto e ananas. Allora. Ho fame. C'ho anche la cochina, eh. La cochina zero perché ovviamente deve essere in tinta. Io so che farò un casino qui perché non c'è posto. Lo so, non può finire bene. Allora, cosa devo fare? Mangio subito così? Che cosa? Vito Massimo esperto di pizza all'Ananas. Sì, che d'altro... Ma poi dicono... Mi hai dato i consigli. Dicono bianca. Eh, sì. Dicono... Dicono ma pure bianca. Cioè, è bianca che è meglio. No, allora, ragazzi, calmi. Io mi sono informato, eh. Mi sono informato perché praticamente, allora, se la metti... Già di per sé l'Ananas che è cotta, no. Però se la metti col pomodoro, hai due ingredienti acidi, vuol dire che ti senti male. Vuol dire che oltre a far schifo o vomitare, non digerisci neanche. Perché pomodoro e ananas che sono due aziacide, la può mangiare, però... Oddio, sarebbe stata la morte sua in tutti i sensi, proprio. Quindi, ha preferito... Io al pomodoro l'ho mangiata. Ah, l'hai mangiata anche al pomodoro e ti è piaciuta? Sì, in Sardegna la facevano così. Però era buona. Comunque io l'ho presa senza... Io ho letto anche una ricetta su giallo zafferano, quindi voglio dire, non sono andato a caso. Ho preferito scegliere questa versione, che non so se effettivamente è meglio o peggio, non lo so. Comunque, quindi c'è formaggio e prosciutto cotto, bianca senza pomodoro, così almeno magari forse digeriscono, non lo so. Comunque, mangiamo. Allora, certo, pizza di una pizzeria di un mio amico che saluto. Ciao Giacomo, mi dispiace. Allora. Vai. Ecco, è cascata l'ananas, è cascata l'ananas, un vole, un vole. Ah, l'ananas mi avete cotta, l'ho già detto. Devo andare, finisce così lo spettacolo, già dopo te. Allora, io mangio il pezzo senza ananas, perché... No, il primo mosto deve essere con l'ananas. Buono, allora. L'impasto è buono, il prosciutto è buono. L'inizio è buono. Allora, guarda, io metto il pezzettino di... Mi dispiace che non si vede, ma... Pezzettino di ananas. Mi trema le mani, col pomodoro, col prosciutto e... Attenzione, è il momento della verità, eh. Aiuto. Sì, cos'è? La prova di Ciao Darwin, di Ditto è il terrore. Dai. Vediamo le cinque fasi del dolore, del lutto sulla tua faccia. Dai, cos'è sta faccia? Allora, di sicuro col pomodoro era peggio, di sicuro. Ah, ho già qualcosa, eh. Diciamo che, secondo me, è mangiavile, però... È che ti ritrovi questo sapore di ananas in bocca, che non c'entra nulla, proprio. È un sapore che sta da sé. Dove, devo dovere proteggerti. Che merda, va... Pepe. Ah. Mi sono fatto male. No, però dai, diverso Ness. No, no, io... Intanto, piano piano, ora ho mangiato un pezzetto piccino, c'ho da mangiarla tutta, quindi, piano piano avrò... Guarda che fettone ci sono, ha voglia te di cambiare idea, guarda là. Guarda che fettona... Un attimo, una fetta alla volta si capisce bene. Allora, dove va? Madonna, c'è anche bella di faccia. Sì, sì. No, allora, ditemi voi se l'avete mai mangiata, parliamone. Ditemi se l'avete mangiata col pomodoro, senza pomodoro. Ma mi sa che devo abbassarla, ma io sono tutto unto. In chat non avrai l'appoggio di nessuno, chiaramente. Siete tutti dei conservatori bastardi. Sto sboccando più per l'impasto che per l'an... Perché la stai mangiando anche te? Cosa ne sai che l'impasto fa schifo? Ma perché? Ma perché? Ma io non lo so io. Oh, più per l'impasto, così. Io sono di Napoli, ecco. Ma hai provato perché l'ho sempre schivata, o schifata. Spero ti faccia ca... Ho buttato 10.000 azzerini su Z. No, no, gli piace, gli piace. Lavorando in pitteria. Allora, prendiamo questo pezzo più grosso, così si taglia la testa al toro. Stato sta ghiacciando. Allora... Eh, sì. Guarda, lo giro anche in modo e maniera che sia direttamente in bocca. Questi pezzettoni enormi. Dove mi prende la bevanda del goloso al posto della Coca-Cola. Però... Lo posso dire che pensavo peggio, eh. Non è... Oh... Cosa che... No, no. Cioè, il fatto è che la pasta è buona, dal dispetto di quello lì che dice... Eh, l'impasto... E poi in Toscana si fa così bassina, però... Tra l'altro è buona, perché non mangiate anche tanto di più merdose le pizze. In Toscana si sembra di artone a volte. Siete, è buona. E diciamo che l'ananas è un sapore che non ci incasta nulla, però... Oh, eh... Mi devo fare un'idea, a modo. Parla te, parla te. La faccia esprime tutto. Sì, no. Ho già letto 14 napoletani che ti vogliono venire a prendere col forcone. Quello... La scena della bella e la bestia, proprio. Quando vanno a castello. Vito, vuoi provare la pizza l'ananas? Io l'ho già mangiata, in Sardegna. È colpa sua se siamo qui. Ho assaggiato abbinamenti peggiori, eh. Cioè, la pizza col ketchup ci stava meno il ketchup dell'ananas, eh, voglio dire. La ananas è cotta, sì. La ananas è cotta. Tra l'altro, la ricetta originale vorrebbe che l'ananas fosse sciroppato. Però, col cazzo. No. Col cazzo. No, sciroppato no. La ricetta è così, con la ananas sciroppato. Ma chi la fa? Ma non è vero. L'articolo, l'intervista che mi hai linkato, diceva che uno l'aveva provata così, ma non si fa con l'ananas sciroppato. La ricetta originale è con l'ananas sciroppato. Da dove viene questa ricetta? La ricetta viene da un canadese che è anche morto. Nell'anno 60. Quindi, tutti i cassini vengono dal Canada. Comunque, la pizza di per sé è veramente buona. Ora sarei curioso di assaggiarla col pomodoro. Perché, madonna, è tutto pieno di schifo qui. Col pomodoro probabilmente... Sempre con l'ananas. Sì, sempre con l'ananas. Secondo me col pomodoro è proprio immangiabile. Che fa proprio schifo col pomodoro. Un mese di fila della pizza con l'ananas per fare le prove, per vedere com'è, una pomodoro, una senza. Come sgarrare male. Cioè, non è che... Cioè, mangiando la mia idea di che, mentre la mangi, cioè, questo sapore dell'ananas che non c'entra nulla. Non mi viene da di che fa schifo, non è immangiabile. Però è un sapore che non c'entra nulla. Non si mescolano mai i sapori proprio. Sono arrivato preciso. Beh, oddio, dovrebbe bilanciare proprio il salatino del prosciutto con il dolcino dell'ananas. Cioè, dovrebbe essere quello il bilanciamento. Ma scusa, anche in Rasa Sui c'era Remy che accostava i sapori diversi. Prendeva il chicco d'uva, il formaggio, li abbinava insieme. Sì, ma il problema è che l'ananas è aspro. È acido l'ananas. Ma è aspro. Come no? È dolcino. È dolce, è aspro e è acido. È dolce, ma è che è aspro vuol dire che non è dolce. Ma è meglio. Come l'arancia, anche l'arancia è aspro. Se ci mettevi la banana, era peggio, secondo me. Non mi ha detto. Il dolce è cremoso. Nuovo meme in arrivo con la scena di notatrice. Ti prego, ti prego. Mettetegli, al posto del chicco d'uva il formaggio, mettete il pezzo d'ananas, il cosciutto, attaccato solo. Colui che vede le cose. Mi sta ghiacciando. Mi dice che non sia acido. Cioè, è acido, sì, ok, ma nel senso non che il sapore predominante è il dolce, non è l'acido. Sì, però se te la mangi da sola, è così, ma se la mangi insieme alla pasta, che è salata, insieme al prosciutto, che ha un suo sapore, è un sapore che non si lega a nulla e quindi ti trovi in bocca come se tu c'essi una caramella. Alla Coca-Cola, una caramella, alla menta. Non si legano mai, forse, non lo so. Però aspetta un attimo, è il prosciutto crudo e fichi che fanno quegli abbinamenti, il melone. Scusa, il melone è pure il melone, il melone è arancione, quello pure è acidino. Eppure è l'antipasto per eccellenza. Ma il melone non è acido. Il melone e il prosciutto sta benissimo. Eh, ma non è acido. La fava. Non è acido il melone, oh, ti imponi e ti fai. Non è acido, io acido intendo il limone, quella asprezza lì, quella. L'acido è, anche, anche, ma quello è aspro. Ma non è che, ci sono tante gradazioni di asprezza e di acidità, anche l'arancio è aspro e acido. Però il limone è più aspro. Il melone è dolce, l'arancio è salato allora. Il melone non è aspro, il melone è dolce e basta, come le pere. E lo stesso io ho mangiato una pizza con fichi una volta, era buonissima, ma i fichi sono dolci e basta. Anzi, era anche un po' troppo dolci, però era buona. Però comunque, pensavo peggio comunque. Posso dire, cioè io dicevo non riuscirò a mangiarla, invece la mangio. Solo che è una pizza che non ha senso. è un crash 4 questa pizza, se la vuoi riuscire. Ecco. Ti spazio. No, un crash 4 paragonato alla pizza con l'ananas. Sì. Ho capito perché la mangiano la meriana, la pizza l'ananas, perché non capiscono nulla di sapori. Quindi mi basta di mangiare. Mangi solo per la fame, dillo. Questa pizza la fatta a Toy 4 Bob. Vi avviasto la musica, così facciamo un po'. Devemo mangiare. Questo è un mukbang, per favore. La persona, al mondo, che dice il melone acido, ma evidentemente non ho capito cosa si intende per acidità. Cioè, io l'ananas, penso all'ananas, non penso per acidità. Cioè, c'è un saporino boh, succosino, come il melone. Oh boh. Non so, no. Non so come spiegarti cos'è l'acido. Ti mangiò insieme in una macedonia e farò il test. L'acido è, non so come spiegarti cos'è l'acido. Quello che fra un po' ti venga a buttare negli occhi. Dio, ti è acido gli occhi. Allora. Mi disacido. Che schifo. Allora, guarda, guarda, guarda. Due pezzi, due pezzi addirittura. Guarda che bello. Questa è proprio food porn. Sì, è mukbang. Non ho mai mangiato in live, credo. Vogliamo sentire ASMR nell'ananas. No. Oh, ma sembra buona. Guarda, guarda come si stanno anche ricredendo adesso, vedi. E ora sembra buona, se la mangi, se la mangi mi faccia pezza e buona. Vabbè, sembra. C'è l'ananas. Fruttile l'asmole all'ananas. Il nuovo YouTube anch'io. Come inaugurare bene la rubrica del mangiare in live. Io ti ho sempre creduto, signor Vizzo. Ecco, grazie. Dopo aver mangiato che farai? Il seguito in bagno. Cos'è sta faccia, mo? Eeeh, non è. Indovina. E' troppo grande. Come è morto, forse. E' una pizza scema. Non lo sento. Non è cattiva, ripeto. Non è cattiva. E' che non ha senso. E' come se prendi una pizza, una bistecca e ci cai sopra. Sì, certo. Però quella, non dici che non fa schifo quella? Non fa schifo quella bistecca. Però non ha senso, certo. Magari non fa schifo. Vabbè, allora. La prossima live si fa quello, guarda. No. No. Tu torni con la bistecchina. Che tipo. Con la merda sopra. Le metafole del rito. Guarda, c'è un abbonato. È incredibile. Uno che sia buono mentre mangi. Grazie. Perché ti faccio pena, vero? Lì ti spiego questa cosa alla mia mamma. Gli spiego, mi diceva di figlia, ha fatto anche le donazioni. E lei mi diceva, ma perché ti fanno le donazioni? Ma cos'è? Gli fai pena? Sì, con la tazzina delle offerte. Ride anche la musica. È il mio dovere proteggerti. L'ananas è tipo tu, inseriti. È bello ma non c'entra niente con che, sì. Però ce lo vedo, Crash a mangiare la pizza da l'ananas. A che fetta sei? Eh? A che fetta sei? A che fetta sei? Me ne mancano tre. Quindi io. Avevo fame, comunque. C'è, c'è dei pezzetti che stanno lasciando. Ma si andrà davanti, migliora o peggiora? E guai. Anzi, peggiora perché si ghiaccia. No. La pizza di Pumpa. Ma ragazzi mi strappo le vale però. Si preoccupa per te, deve essere una brava madre. Fa cà o non fa cà? Eh, non sa di nulla la pizza da l'ananas. Non ha senso. È come se metti un pomodoro sul gelato. C'è senso? Non credo. Non ho capito il tuo giudizio alla fine. È che non è cattiva nel senso che ti fai vomita. Però non ha senso. Non è uguale l'originale. Non so come giudicarla. Ma ti ho detto ma aspettavo peggio. E sicuramente col pomodoro farebbe schifo. Però, cioè, è mangiabile. Però voglio dire, non la rimangerei, diciamo. Ma magari ti piace di più col pomodoro. Ma va tranquilla, no. A 120 bevanda è goloso, no. No. Ma scusa. Aiuto, mi sento. Scusa, eh. Eh, lo so che mi devi chiedere scusa. No. Una volta che la trovi in una pizzeria che la fanno loro, proprio. Non gli dai una seconda chance. No. Fatta da loro, proprio. Che te la fanno direttamente loro. Perché qui puoi anche dalla schiusante. No, no, no. Impostata per un certo modo. No. Prima e ultima volta. Hai cotto l'ananas, sì. Ovviamente. Arrottitino l'ananas. Come deve essere fatto? Io sto convertendo un po' di gente. Questa cosa va nel culo. Ragazzi, provatela. Provatela e vedete un po'. Bisogna provarne la vita le cose. Non le provi, non lo sai. Ora lo so. È così. Finché non provi, ora ci sarà qualcun'è la mano presa nel culo. No. Allora, ce l'ho fatta. Enrico, raccontaci come la chiesta è al tuo amico. No, no, no. Non si racconta niente. Vabbè, la chiesta è normale. Ah, non si può sapere le tre scena. Un po' di... Mi inizia a venire un po' di... Di mare di pancia, devo dire la verità. Forse è suggestione. Sì, vabbè, però sei una mammola, sei. Non, 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 non. Sì, chiesta normale non penso, capito? No, ma... Cioè... Ma si può dire come l'hai fatta sta pizza? Non si può dire. No, non ti può dire. Lo sapete, è ordinata. Ah, non si può dire. Ordinata, se lo fa. Mi dai una pizza all'ana? Prossima live in bagno? Sì, con Dario accanto. Ah, perché fa canna? Perché? Non vomita in live. No, no. Guarda Dio, se devo vomitar vado via. Un vomito di davanti. Ti alzi tranquillo, ti sposti. Che si fa dopo. Sì. Che si fa dopo, gioca a Oddworld. No, stasera non c'era il sole di perché devo giocare a Oddworld. Sono io. Comunque devo mangiare la... Devo bere la Coca-Cola, bimbi. La cosa migliore... La Coca-Cola. La Coca-Cola o l'annuncia orta-orta. Zero. Che è quella sempre che prendevi te, mi pare. Come proteggerti. Cosa? Sì, sì, sì. L'ha visto il video del fossetto? Cos'è il video del fossetto? Di fossetti? Enrico la scaletta? Cos'è Enrico la scaletta? Vito, avete visto Spence? Allora, vai. Parlaci del trailer di Spence. Ma almeno mangio un pace. A me è piaciuto. L'unica cosa è che è proprio... Cioè, è un sequel fatto così per... Non ha alcuno spirito, diciamo, non innovativo. Nel senso che il primo Space Jam aveva tutti i suoi motivi per essere fatto. A partire dal fatto che Michael Jordan era una leggenda vivente, incredibile. Adesso, boh, si fa per fare sequel, per seguire il periodo. Che cazzo c'è? Tutto è un sequel, non c'è quell'evento dietro. Però sembra bellino, cioè... Sì, io ho detto... Lo vedrò, chiaramente, ma... Vedere il trailer mi sembra... Mi parlano... Mi sembra molto più interessante di quanto mi aspettavo. Cioè, almeno sembra che ci sia una... Sì, sì. Sembra un po' Ready Player One, però, insomma, madonna. Eh, sì, sì, sì. C'è la posto? Le vallanassi sopra? No, via, non vale. No. Quindi ti stai autosuggestionando. Nel senso, ti stai autoconvincendo che forse... Forse ti piace, ma in realtà no. Non l'ho capito, cosa mi sembra. Non comunque... Sicuramente non ti piace. Sicuramente non ti piace. Però, cioè, non ho capito se... Passi da... Ma sì, boh, mangiabile a boh, fa schifo. Ti ho detto... Ti ho detto... Non è che ti fa vomità, ma non è buono. Perché sono dei sapori che non si sposano. Scusa, ma perché va così tanto nel mondo? Perché tu lo lascia perdere, tu guardi l'Italia. Ma comunque... Cioè, Australia, Stati Uniti, Canada... Tante parti dell'Asia, vedi c'è... Ma in Inghilterra fanno la pasta con l'insalata. Vabbè... Ma vabbè, non vabbè. Se non hanno una cultura del cibo... È normale, è chiaro. Non mangiare, vabbè, non si mangia. Non sono in grado di dire che non è una cosa buona. Un po' come il suo parere su Crash, cosa? Cosa? Non lo so. Perché nel resto del mondo sono scemi, accanto. Non è che sono scemi, non hanno cultura culinaria. Così. È buona, è buona, com'è buona, donna. No, è che se la deve fare uno che sta a fare proprio quella. Non come fa... Certo, un pizzaiolo specializzato in pizza all'anas. Grazie, ditta ino56. Che le sforna tutte le sere. Il fan numero uno. Ma chi è che sforna le pizza all'anas tutte le sere? Che stifo. Sardegna c'era, lo so. Secondo me, nelle grandi città c'è chi lo trovi. Sì. Una volta ho provato i biscotti al cioccolato con il ketchup. E com'era? Cos'era? Sei ancora vivo, quindi... Io sono suggestionato... Mi sta venendo una agitazione di stomaco. È suggestione, di sicuro, però... Ma perché... È una pizza, eh, voglio dire. Non è una pizza, è una pizza mortale. Non è una pizza. Un pizzaiolo specializzato nella pizza all'anas e peggio Giacomino che doppia gli starnuti d'allergia. Tossisca, tossisca. È il mio dovere proteggerti. Il booster con la Nutella. La provavo solo perché ormai è un fenomeno da circolo con la pizza all'anas. Ma che canto dico? No, più che un fenomeno da circolo è il man, ormai. Certo, è la pizza ritenuta blasfema per eccellenza. Comunque in America ogni volta che vedo un telefilm, un film dove c'è qualcuno che sta in un fast food, c'è sempre, sempre, chi puccia le patatine e le strappette. Lo vedo far sempre. A questo punto non so se è un man che si è inventato loro. Ma che film vedi? Ma che televisione hai? siamo il tecnico c'è uno che puncia le patatine nel frappè cosa c'ha la tv io non ho mai visto no no io l'ho visto tanto, l'ho visto fare anche io nelle serie tv americane aspetta, assaggelo cosa questo, la patatina nel frappè io vedi il polo e la birra però quello sai vabbè quello è un modo di cucina dai ultimo aspetta la vuoi te? la vuoi te? vieni arriva carda guardatina nel frappè si boh lo vedo sempre fa quindi Vito non mi deludere tu mangi la testa del gambero l'interno intendi no la testa non la mangio però mangio la coda spesso e spesso non li non li sbuccio e anch'io il gambero mi faccio abbastanza schifo oddio la coda dipende dipende quanto è grossa la coda però la testa di quelli del sushi me la mangio sempre non lo lascio mai la coda la coda è una bestia di satana io ormai mi sono levinato con le mie mani però i miei hot dog ti piacevano dire la verità vedà io è un hot dog col ketchup non è che la nostra no non è un hot dog col ketchup ah vero c'era il pomodorino secco sono i pomodori secchi c'era il provolone si era buono erano delle erano le cipolline c'era la salsa quella lì quella tipo ranch quale? di me era una salsa che non era ketchup perché poi a te non piace il ketchup quindi è che non mi piace preferisco le cozze le cozze mangio il mollusco con il guscio allora io mi racconto tanto ormai mi sono rovinato non è che dice un modo di rimediare la mia immagina per tanto tempo magari non inferir non inferendo magari a questo punto lo dico per tanto tempo da adolescente ho mangiato le arachidi continua tu continuano a te le arachidi in terra dove le ho mangiate? eh sì sulla luna ho mangiato col guscio ma cosa? aiuto mi sento ma perché? ma l'ho fatto ma perché devi dire queste cose? l'ho fatto per tanto di quel tempo l'ho fatto le volte di la cittadinanza però non lo faccio più perché da dove quant'anni avevi? il stomaco eh cosa avevo? avevo un ragazzino avevo 15 anni come 15 anni? io credevo 3-4 si me ne mangiavo col guscio che mi strozzavo mangiati che mangiavi le 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 sempre le ho sempre mangiate con la scorsa lo so su questo sono indifendibile però non lo faccio più perché no Non è la mia intenzione Fai girare fuori questa nerd Ma io non so cosa dire Eh mi strappo le palle È l'ennesima cosa Che mi tira fuori Quando vorrai svinire una mia argomentazione Eh ma a questo punto A questo punto Non è vero Ci manca anche che metti i cammini Mentre i cammini prendi un sasso Te lo mangi Ma nessuno Ti diceva guarda non si mangiano così Sì no nel senso Lo trovavo gradevole Come se fosse una specie di antistress E quindi boh Ho fatto per tanto Poi io l'ho smesso Perché hai smesso? Eh perché non andava bene Dai poi a un certo punto me l'ho reso conto Che mi faceva schifo per questo sabore in bocca E quindi ho cominciato a sbucciare le arachie Ma quindi lo facevi consapevole Che non andava fatto? Certo Ah no perché Ah no perché non sapevi che andasse a pezzi Proprio ti piaceva No Eh vabbè C'ho capito Sono strano Non sono scemo Cioè Eh no Vabbè Ti mancava pure Ti mancava pure Come devo fare? Mi ci dava nell'orecchio Sai Ha smesso Ha smesso Ha smesso Perché ha scoperto Le noci Con la scorza Oddio No Vabbè Quello no Magari Lo vai a conoscere Tutto sdentato Non hai idea Che cazzo fai? Oh no Vuole 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 Anche io Non fateli scoprire il cocco Sì Fai direttamente il conomero Anguria No però Non la dovevi Dico Allora Se hai Allora Se hai altri Aneddoti culinari Non li raccontare Perché Basta Basta No no Vabbè Questo lo volevo Dice Vito Hunter E l'arachide Caprina Cos'è Ah La cosa di prima Ma poi come C'è altro Pippo Mangia le noccioline Col guscio E tutto Sì Sì Infatti Ma Ma No No non voglio Dì che per quello Se no poi C'è nessuna Ma Che ci dà No però Sì C'è L'ho fatto Per un po' Però Ma perché Lo trovo Come se fosse Una cosa di antistress Non te lo so spiegare Ora mi viene a chiederti Ti piacciono le castagne Sì Sì No le sbuccio No perché Le castagne stanno nel riccio Quindi Ah Vabbè Ma pure Ma pure senza riccio C'è l'altro strato C'è C'è il doppio strato Vabbè Sì Ah è vero È vero È vero Ormai In chat Sono proprio Chuck Norris Fact Vito Loki Lo prende Masticando la bustina Con l'antistress Madonna Comunque la buona L'impasto L'impasto era buona Oh Abbiamo sta frase Mi do butta tutto E mangio solo il riccio A scuola oggi ho peso 8 in matematica Complimenti Molto attinente Molto attinente anche a Tito Sì sì Ma prima Prima uno ti ha detto Ti piace dover sto vaso Mi è venuto il tringhiozzo Enrico che vince il pronò Ti piace o no? No No Perché Sì è finita Però È un sapore che non ha senso No non è 6 Al massimo 5 È una pizza che non ha 6 No non ha senso sta pizza Non è Non è buona Non è una buona pizza Non è Non fa schifo Ma non è buona Capito? Te la Te la condono Sembrava Avrei pensato peggio Sì anche io pensavo Pensavo di non riuscire a mangiarla Invece È che non ha senso Semplicemente 5 Ma giusto perché L'impasto era buono Il prosciutto era buono Paghiamogli Fa casi Fa casi Non la rimangerò mai più Mai più Non ha Non ha No Perché proprio Bisognerebbe provarla col pomodoro No Ma quando la mordi E ti trovi il sapore L'anas in bocca È un sapore che resta lì Non si mescola a nulla Non è Non la rende buona Io però Devo prendere un caffè Eh No Andavi bene a scuola No È mio amore Proteggerti Basta ragazzi Non lo dovevo dire No Non lo dovevi dire Tu ci tieni tanto A non rivelare Le cose compromettenti Ma infatti sì Ma perché Poi Cioè È come solo boomerang Ti tornano indietro Ti girano Ma lo vedi Era tutti E le lasagne Sono a boomerang E la pizza E la bevanda È goloso Ora ci sarà anche Le vignette Con le arachide Ma scusa Se un giorno Vorrei fare i tuoi gadget Cosa ti fai Fai queste cose Ma bello Allora dammi Materiale Per fare dei gadget Allora È risata 5 euro Compete Marta Pina Ora Ora Devo digeri Devo mangiare Un bel caffè Devo dimorare Non prendere il caffè Dopo l'alans Perché Non va bene Sono pieno Magari Sono pieno Comunque Magari Maggiarla In live C'è anche un minimo Di Sì Infatti Meno rilassato Non è rilassato C'è sempre Anzi L'anziettina Cioè È una sensazione Strana Che devo Mi sono accorto Che Mentre mangi Almeno Io sono abituato Uno si rilassa Invece In In live Non è che Ti rilassi mai Sei sempre Sul chi va là E quindi Ho sentito Questa sensazione Di Rilassino Chi va là Rilassino Che quindi Un po' Non è piacevole Per me Poi magari Abitudine Sì Sì Dovevo fare il video Ti ricordi Con le schife No Prima o poi Si farà Prima o poi Si farà Un video Dovessi mangiare Schifezze Dovessi mangiare Un bel caffè Sì Madonna Ragazzi Lo dicevi io Vito che Nel venti di Oddworld Eh io lo mangiavo Con la custodia Madonna Ma L'ha preso Isa Che la sua ragazza È patitissima Di Oddworld Sì Credo di no Perché Ha preso Di recente Coso 2 Little Nightmares 2 Però prenderà breve Sì Coso 2 Coso 2 Perché ha preso Coso 2 Ok Quattro Quattro Di Pringles Di Pringles Di Pringles Di Priciole Di Pringles Madonna ragazzi In pieno Storicamente Compromesso Sì Qualsiasi opinione Ora Foto Da Che Ti mangi Da L'aranas Col guscio Stavo dicendo Bisogno di un caffè Ma era un ragazzino Dai Non valgono le cose Che si fanno Prima della maggiore età Capite Ma a 15 anni Mangiare L'arachidi Col guscio Ma a 15 13 In quel periodo Lì Iguale Non va bene Lo stesso Non va bene Ecco Di socio Di socio Di socio Giudizio finale Sulla pizza Quattro e mezzo No Cinque Eh guarda Perché cala Perché la pasta Era buona La pizza di pezza Era buona Però Madonna Devo fare Dei rutti sonori No Già Un po' Sommettimi a giusto Devo digerire Un attimino Mi pazienza Non ce lo posso fare 130 persone A vedere la pizza Vabbè Le lasagne Sono da boomer Le lasagne Sono da boomer Sì Non sono buone Io Dicendo questo L'ho fatto passare Il messaggio Per come fossero buone Non è vero Sì Però La gente Così Se dice Lasagne Sono da boomer Non va bene Rovinato Grazie a quell'affermazione Grazie a quell'affermazione Aiuto Buona cosa La coca cola Si è disattivato il video Eh Si è disattivato il video Si è disattivato il video Mi da questo problema Che ogni due secondi Devo ricaricare Ti chiedono Vito Crash 4 Lo preferisci Con O senza custodia Ormai Ormai Rovin è finita Vabbè Andata così Andata così Vabbè Raccontandolo Mi sarei scoperchiato Male Per essere Infilizzato Dalle spade Della vendita Era strano pure Se avessi avuto Sette anni Leva l'audio E facci leggere Il rabbiale Dei rutti Mi rispondi su telegram Un secondo Ah ok Vediamo Ah ma c'è ancora La risata Che non Si c'è ancora La musica Si Meglio i popcorn Cucinati O Alla mai Eh Vito Meglio i popcorn Cucinati O alla mais Cioè Ah cioè Non scoppiati Un piatto Alla mais Pro Che è una ricetta Vito La lattina di Coca-Cola Alla ma Ah Basta Sì Adesso sono diventato Quello che mangia gli oggetti Cos'è Sì Dalla frutta Col guscio Del domino Ne butti giù Una e vai via Tutto Cioè Cos'è Pov Stai giocando A tag team racing Madonna Però a me è venuto bene Ragazzi È un bel rutto Fossimo in India Sarebbe stato Di grande gradimento Lo sai che in India Si Natale in India Eh ma lo sai Che in India Se fai il rutto È perché hai gradito Il pasto Oh Sì ma In tante parti Sì insomma In Asia Quelle parti lì L'antica Roma Ho riso insieme Alla risata di Vito Nell'antica Roma Mi pare Dovessi sbocca Però non so Non so mai Se era vero Se era falso Come dovesti sbocca Che cazzo mangi a fa Se devi sbocca Ora Si diceva che si doveva Mangiare fino a sbocca Per dimostrare Di aver gradito Però credo fosse Una palla Non credo Non lo so Non lo so Con questo Hai già digerito Ho fatto una compilation Di questi Ma l'ho fatto uno Cosa Chi è Ambrose Si è abbonato Per quattro mesi E quattro Viva Crash 4 E Vito 4 Grazie mille Tra l'altro A quello di prima Che si è abbonato Per il primo Devo far l'inchino Perché è stato Il primo abbonamento Quindi grazie Non mi ricordo il nome Però grazie I rooti sono molto Più dignitosi Delle scoregge Vabbè si Io scoregge Non le faccio Io Anche Io Confermo Ma io non le faccio proprio È proibito Per il mio corpo Fare Il tappo C'è il tappo Sì sì Vito ha mai provato Le scaggo Eh no Guarda Io non l'ho mai provato Non le voglio provare Mi fa schifo solo l'idea Devo chiudere l'audio Eh Vorrei dirti che sono buone Ma tanto L'hai mangiata Sì sì Ma mi sono piaciuta Sia quelle Nel sugo Sia proprio la Ben tornati Sul mio canale Anche la mia mamma Di garbano A me A volte l'ha fatta A me Non l'ho mai assaggiato Perché mi fanno schifo Solo a vederle Non ce la fa Eeeh No Già c'è un lavoro strano Qui Quindi Mi parla anche Delle chiocciole Perché Mio no Non è vaghiotto Eh La pasta con le vongole E se te la mangi Sì Ma le vongole Non strisciano in terra Era questione di strisciaggio Una vongola Che ci ha creduto di più Che cazzo No è vero È vero Madonna C'ho le briciole Anche in culo È vero Che effettivamente Come le cozze È vero Il principio È lo stesso Dove essere un pokemon Si partirebbe da cozzo Cozzi E poi Evoluto L'umano E compagnia bella E quella sarebbe La scena evolutiva Cozzina Lumaca E lumaccone E di terra Vito quando mangia Le lum... Baaaaa Vito quando mangia Butta le lumacche E mangia i gucci Così Puu E mangia i gucci Vito ti prego Non parlare più Va bene Vado via Ciao Povero Vito Ho appena scoperto Grazie a Vale Vitis Che Telegram È da 14 anni in sua Io Sto anno Ne faccio 14 Che cazzo è successo? Si è bloccata anche la musica Cos'era? Si è messa solo la batteria Vito in casa La pasta con le vongole Con le conchiglie Annesse No a me la pasta Me le devi levare Le conchiglie Perché veramente Sì Mi fa anche Una volta Mi ricordo Andare a ristorante Presidi Non avevo mai mangiato La pasta Allo scoglio Io dice Boh ma cos'è sta pasta Allo scoglio Eh la pasta Con le conchiglie Arrivò a un piatto C'era più conchiglie Che pasta E io dissi Ma cos'è questa roba? E quindi Mi fa la mangiare Però No Cioè Fa la mangiare Fighetti Stano Enrico ricordami Quest'anno fa 19 o 20 anni Lo so Lo so Ho smesso Di contare L'anno Credo 20 Però non lo so Da tanti che sono Io invece La pizza Quando te la portano I frutti di mare Che te la portano Riempita di cozze Aperte Cioè sulla pizza Proprio Non la sopporto Sta cosa Sì Eppure mi è capitato Spesso Cioè Sono più le volte Che mi è capitato Così Con tutte le cozze Aperte Con il guscio Che non sento E tu hai mangiato I gusci Cos'è La lumaca Che hai nel piatto Sta iniziando A muoci Ah ok Sì E le zampe di rana fritte Allora una volta L'ho mangiata E erano buonissime Sapevano di pollo E erano buonissime Ma da piccino Ma eppure mi piacquero tanto Poi non ho più avuto Il modo di mangiare Però Mi rimase un Un ricordo positivo Quindi sì Però mi ricordo Che anche per quello Ero un po' diffidente Però una volta Le vidi fritte Sembravano Pezzettini di pollo E erano buonissimi Enrico Il mio stile È preferito La sagra Della rana fritta No Le fece mimare Le home pro Le fece Non era Pesce nella pizza No Al massimo Toller Il salmo Oddio Effettivamente La pizza al pesce Non credo Quella mi mangia Il frutto di mare Quello Si intendeva Eh Non credo Che mi ha mangiato La pizza Con il frutto di mare Ah Sì È buono Pesce nella pizza No Al massimo toglie Lo salmone L'acciughe Ah l'acciughe No ma l'acciughe Non mi piacciono Di sopra Eh Però Non mi piace L'acciuga Ti piglio a sberle Con le acciughe Però Piccoline Slop Slop No Non mi piace L'acciuga Qui vicino Verso Montopolo Montopolo O Montopoli Montopoli Sei di Montopoli Qui vicino Qui Montopoli Provincia di pizza Tempo fa Facevano la saga La rana fritta Sì Può essere Può essere Ti piacciono I cutudruni Che cazzo Alzi la mano Chi mangia tutto Vito Che mangia No Dopo a cosa c'ho Che Odward E Fari capire Che a te Il pesce Non lo mangi No Io lo mangio Il pesce Ma mangio Lo mangio Po Perché Deve essere Quello Senza Lischi Perché a me Il pesce Le lischi Te lo mangi Te Abbi pazienza Io sarò Così Però a me Non mi garba Lavorare In realtà Attenzione Perché Il buon ton Proprio Dei ristoranti Dice Che il pesce Nel piatto Non deve avere Nemmeno Una liska Perché Che il cliente Deve mangiare Non deve Levare le lische Quindi quando ci trovi Le lische Nel pesce Non va bene Però io A me non mi garba Il pesce Quando Però ad esempio La trota È buonissima La trota È un pesce Meraviglioso Però Tanto Non lo mangio Attivamente L'unico pesce Che mangio È il merluzzo Quello Pomba ragazzi Sì Quando arriva Il dolce Come il dolce Intendo Fammi digerì Un attimo Io posso Già ora Muoio Già così Muoio Muoio io proprio Pesce spada Buono Meglio La carne E il pesce Eh vabbè Buonissimo Il pesce spada Tra l'altro È una bisteccona Di mare Buonissimo Il mi babbo Mi ha comprato Le figurine Dei carciatori Ma cosa Me ne frega Cioè Bello Bello Ma perché No vabbè Siamo felici Siamo felici Quando ne pensi Monster Hunter Non ci ho mai Gioato Mi urta Che tu Mi dia La roba Che devo scartare Mica mi porti Una mucca Intera nel piatto Ma non ho capito Non ho capito Sono tanti cibi Che li devi scartare Devi sbucciare Voglio dire Magari il pesce Perché dà fastidio Se ti finisce la risca In bocca Ma Eh sì È pena di cibi Che devi stare A sbucciare Per forza Non è che Tipo le arachidi Eh esatto Se Dio vuoi Domani mi prendo Oddo Mi piace Monster Allergy Io ho il numero uno Di Monster Allergy L'ho preso E basta Solo il primo Dai su uomo Vomita Durante Oddo Eh sì Leviamo un po' Sta musia Che basta Mi fa venire i pallesi Ah mettiamo un'usia di Oddo Ah Che palla Pensi che debba cambiare Nick Per sembrare meno anziano? Sì Ma sei comunque Più giovane No Non è vero Non è vero Io sono del 96 Ho sbagliato Poi veramente Questo fatto che è 89 Ci invecchia di un decennio Quando è la fine Cioè per sei mesi Non sono del 90 Il 90 guadagnavo 10 anni In più Invece questa cosa dell'89 Ci toglie Ci toglie un decennio intero A tutte e due Dio Perché come i prezzi 1,99 È meno di 2 Quindi Io sono più giovane Non mi interessa Cosa? C'è quella cosa dei prezzi Che 2 euro Sembra di più Sembra tanto di più Di 1,99 All'anno zero Cosa? Sono nato nell'anno zero E ora c'ha 2020 anni Però comunque è più giovane Perché è dell'anno zero È una cosa mentale Se fossi nato nell'87 Sembrissima Sembri tanto più vecchio Di 1 Lo so Senti Lo so Devo dicere Non è del 96 Enrico è del 96 Non dice un bugia Esatto Io quest'anno faccio 25 anni Questa musica mi fa venire La onco Mettiamo una musica di Questa Zelda Musica di Zelda Devo digerire Devo digerire Ce la posso fare Devo digerire È stato un parto Sta pizza No È una pizza Di perzetti riempie Oh Vabbè No Lilith Ciao Che ha detto? Aia Enrico Si vedono i capelli bianchi Aia Ecco Che ne pensi Dei film di Tarantino Eh Sono belli Sono belli Ora non sono In Non posso Mettere a parlare Di film di Tarantino Però sono bellissimi Vito l'ha inventato Eh? Vito l'ha inventato Il mio film preferito È di Tarantino In assoluto Cosa? Kill Bill Ah Kill Bill È l'ha fatto Tarantino Eh io invece Kill Bill È l'unico che ho visto Di Tarantino No Come fai Non vedete Lo vedrò Prima un po' Lo vedrò Raga non è vero Enrico è giovane Non esistono i capelli bianchi Per lui Ma non è capelli È che qui I capelli sono più corti E si vede Più chiaro Perché c'è la pelle Non è che sono Se te non cominci ora Con un po' di sana accettazione Ti ritrovi A 50 Che Non lo posso dire Perché se no Ti bannano Però Ha che fare Con cose Che si comprano Al Walmart In America Quindi Stop Finiamo Finiamo Finisce qui Cosa si compra La tinta per i capelli Le patatine Le patatine Cosa si compra Non ho capito Vabbè La certà È bannato Si può essere giovane Anche con capelli bianchi Esatto Perché comunque Conosco persone più giovani Che hanno più capelli bianchi Di me Quindi l'età Non esiste Pulp Fiction È il mio film Sì Pulp Fiction Però Forse il mio preferitissimo Di Di Tarantino È Bastardi senza gloria Anche se Mi devo rivedere Dateful Aid Che è bellissimo Sono tutti belli Di Tarantino È difficile Veramente I capelli bianchi Mi fai Digeri Madonna Sono in coma Etilico Io ho dei capelli bianchi Da quando avevo 16 anni Non sto scherzando Crystal No È una pizza Di perzetti riei Lo sai I primi filettini bianchi A 16 Credo a 18 Io credo Il primo Primo Capello bianco Di averlo trovato Sui 21 anni Credo 20 20 Vabbè Ma comunque davvero C'è un mio amico Che 5 anni fa Aveva più capelli bianchi Di me Ma tanti di più Quindi Vuol dire Dipende Non siamo tutti uguali Sì Genetico Generico Io ho dei capelli bianchi Ma dove è Primissimi a 16 anni Poi altri a 20 Eh oh ragazzi È così Dimentichiamoci Django Eh invece Django Non mi garbò tanto Avvicinati un po' Ti sento lontano Mi sono piaciuti tutti i film di Tarantino Cioè Almeno Sì Ti amami anche Django Però Django Secondo me c'è delle cose Sbagliate proprio Però me lo dovrei rivedere Ragazzi Se uno vuoi parlare di Tarantino Ora C'ho un Tarantino C'ho un dialogo Di Parficio Nello pancia Nello pancia Quindi Crusti Ce la posso fare Madonna santa Io vomito stasera Ecco Ma che cazzo Oh già lo so come andrà Andrà Ve lo dico io come va Mi scriverà Verso le 3 di notte Madonna Non ho digerito la pizza Non la dovevo prendere Con la lagnetta Delle 3 di notte La lavagnetta Cos'è la lagnetta E le 3 di notte Ma che cazzo Lagnetta Ma cos'è la lagnetta E le 3 di notte Sì Domani No sono andato in bagno Ma come avevo la pizza Me la dovevo prendere Non lo so come andrà Vito lo sappiamo tutti Cosa ne pensi della Microsoft E in particolare dell'Xbox Ti sembra una console valida L'ultima uscita No Non lo so Non lo so ragazzi Non mi fate ragionare C'ho da digerire Non lo so Io ho la Playstation 5 qui Non c'ho l'Xbox Non lo so com'è l'Xbox Non si beve con la bocca vicino alla lattina Beh si tempi Effettivamente Eviterei E però così Così Ma poi lo fai Io che c'ho un sacco di ossessioni Compulsive Cioè Non la fai la roba della lattina Della linguetta Cosa Con l'ABC Ah ma Lo volevo fa Ma lo faceva All'elementare Stasera l'ABC Io lo devo fa Perché se non lo faccio Morirò il giorno dopo Tarantino si rivorterebbe Dopo sta cosa A poi prendere il volo Per Ponte d'Era Ma non è morto Tarantino Mi se ci racconti la storia Di come sei diventato Niente Di come sei diventato In Django purtroppo Mi sono andato a notare L'eccessivo Il film ha avuto Eh peccato Tante scelte Non mi sono garbato Non si beve con la bocca Eh Vabbè Trasferisci il liquido Con la telepatia Io devo schiacciare la lattina Se non mi mangio il culo Ragazzi però Se avete i patemi Se stai così per una pizza Immagina quando ti sbronzi Ah no Non ti sbronzi Esatto Bevi col cucchiaio Bello così Ha mangiato una pizza Mica bevuto tequila Eh ragazzi Ma io ho lo stomaino piccino Io sono un minuto E la pizza era grossa Cosa pensate di Hilda Ma chi è sta Hilda Comunque Allora La Coca Cola Vito la beve Con tutta la lattina Basta Come fa Prende la lattina Bello te mamma lui La realtà fa molto male Cos'è Cosa ne pensi della Ma No Bello te mamma Allora Facciamo giù Della lattina Della linguetta Uno Anzi B C D E F G G G Se c'è una Gina Una Genoveffa Una Giancarla No C'è Giancarla No Gialevitis Dai G Di Vito Gaetana Giusto Giacomo Io mi chiamo Gianluca Buona questa Buona questa Antina Ma e quindi dicevi Te se non fai questa cosa Impazzisci? No Ci penso fino al giorno dopo Capito Quindi lo faccio per liberarmi Di questa ossessione E invece lo dovresti fare Dovresti proprio pensarci Fino al giorno dopo Proprio da renditi conto Quanto è una cazzata E poi non ci pensi più Perché poi il giorno dopo Succede Una qualsiasi notizia Qualcosa di brutta Perché è stata la lattina Sì però esistono Gli psichiatri Eh Vuoi dire Non è che Siamo impazzisci Guarda Guarda nell'avviso Scappa Urlante Con urlo Per me Lo scappa così Che sfonda ai muri Come a rale Che corre con le braccia Sì Corbuo nel muro A forma di persona Così Sì A forma di persona Anche diverse Sì Non mi ha riso così tanto Ti voglio qui ogni sera Lascia il suo lavoro Per stare prima Tanto a quest'ora È un lavoro Cioè Lavoro di no Chi te l'ha detta Sto Non mi ha riso Dov'è? Va che i capelli tagliati Stasera Eh Non è che sono tagliati Sono Me li sono fatti bellini Perché è una serata importante C'ho la filpa bellina Bellini La barba fatta Eh Clippate All'inizio del 2020 Ti sei scordata Quindi all'inizio del 2020 Ti sei scordata Di fare questa cosa Della lattina Perché? Che ho fatto? Ah ho preso Vabbè ma se sto insieme Non ci penso magari Sto da solo Ma perché abbiamo fatto La live con la lattina? No No Era una battuta Per dire che è colpa tua Che c'è stata La pandemia Perché stavo pensando che avevamo fatto una live insieme E poi me l'ho dimenticato di farlo Non è blu questa ferpa Madonna ragazzi è viola Non lo so perché si vede blu Guarda E sembra blu Non c'è versi Te l'hai vista di persona è viola Non è blu È viola spiro Eppure sembra blu non c'è versi Non lo so Secondo me è la camera FH È bianca e ora Era andato in bagno Era andato in bagno Cos'è la storia della lattina Che Vito non riesce a vivere Se non fa il cosino della lattina Se non lo fa lui si sente in colpa Per tutta la vita Una delle quattrocenti Io lo dicevo che Vito deve sbagliarsi Sul lettino Vito sui lettini No comunque è vero I disturbi ossessivo-compulsivi Andrebbero curati Perché poi portano alla complicazione Ma ha cambiato l'obiettivo E poi dai Lo scampo così Lo scampo così La cosa importante Che non dovrei accorgermi Cioè dal momento in cui mi accorgo Di una cosa e ti faccio caso Poi la devo fare Tipo le stisci pedonali Carpestate in un certo modo Con le cose lì Anche quando sta passando la metro C'è un film con Jack Nicholson Su questa cosa Che bello Non mi ricordo come si chiama Ah ho capito Il film di Talart È un film Scritto da Uno degli autori Dei Simpsons Da James L. Brooks Mi sembra Scritto da lui proprio Che c'è Jack Nicholson Non mi ricordo il titolo Che c'è Jack Nicholson Che c'ha queste cose C'ha questi disturbi Ossessivi compulsivi Ma che li condizionano la vita Ma tanto a livelli gravi Ovviamente Che tipo lui cammina in casa Contando le mattonelle Era bello Sì non mi ricordo bene Poi la storia Perché era una commedia È un film divertente Un po' Un po' Un po' Un po' Non riesco a vivere Però Se padurni No Purtroppo Eh no Ma infatti Anch'io ce l'ho avuta Ce l'ho Cioè devi cercare Di combatterle Perché se no Non ne esci più Cioè non devi essere Schiavo Di questi disturbi Perché sono disturbi Sì Non so Non sono disturbi gravi Ma potrebbero diventarlo Capito Quindi Lo sai che io Ho dei trascorsi D'ansia Quindi Qualcuno volò su No Quello è un altro Quello del Nino Il Cuculo Eh Questi disturbi L'hanno portato La stessa Le pina di Cortex No Quello del Nino Il Cuculo È un'altra cosa Il mio Cuculo È proprio pazzo Proprio E tra l'altro È bello Quello Ora lo scelgo Aspetta Vediamo un po' James L. Brooks No ragazzi Non le scrivete Perché poi Io sono una spugna E le assorbo Non mi fate leggere Se ci manca Che mi mettete A scrivere Le suggerimenti Io Suggerimenti di che? No In chat Stanno scrivendo Tutti i loro disturbi Ci manca pure Ne apprendo di nuovi Capito? Si chiama Si chiama Qualcosa è cambiato Di James L. Brooks Con Jack Nichols È del 97 Il film occupa Il posto 140 Dei 500 film Più grandi Di tutti i tempi Addirittura Della rivista Empire Qual era il titolo? Qualcosa è cambiato In inglese As good as it gets Mi ricordavo il sito Di inglese As good as it gets Non mi ricordo Poi la trama Di Josep Però c'è lui Che poi si innamora Allora Melvin A affermato Scrittore di romanzi rosa Che vive a New York E soffre di un Quindi è uguale Come vita Ma solito polino Che soffre di un disturbo Ossessivo compulsivo Offende e umilia Costantemente gli assi A causa del suo Pessimo carattere È un misantropo Razzista No no eh Detesta eh Vecchietti e cani Saimone Va bene insomma E mi ricordo Che era un bel film Grazie a The A of Gamer 04 Che si abbona Per la prima volta E quindi Io mi devo inchinare Mi inchino Bellissimo film Ma il reverendo Ha una cultura Cinematografica Li sa Li sa È quello del tizio Che prende il bazooka Per il traffico No Quello lì Del bazooka Nel traffico È È Come si chiama È È Come Come si chiama Clippato dalla mentana No Quello del bazooka Nel traffico L'attore Lì era È Come si Michael Michael Douglas Come si chiama Un giorno di ordinare Follia Sì Anche Quello è bello Quello è bello Anche lo lì Però non è lo stesso film E tanti film Belli Anche inchinarsi a ogni sub È un disturbo No Non è un disturbo È un'abitudine È una cosa ricorrente Un giorno di ordinare Un giorno di ordinare Follia È razzista Come nemici Di paperone Ma quante gemme Stai su Crash On The Run Ah ragazzi Oggi ho giocato Un altro po' A Crash On The Run E non ho più voglia Di Ma roto coglioni Crash On The Run Vito Ci sei? Sì 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 Ah E ne posso più Di Crash On The Run Perché è bellino Ma le meccaniche Del farming E del raccogliere oggetti Sono Ma più che altro Lo dicevo anche oggi a Vito La cosa sbagliata Scorretta È che A mano a mano Che vai avanti Non ti richiede più Gli oggetti facili Da ottenere Ma solo quelli difficili Quindi Te magari all'inizio Devi fare le boccettine verdi Le pistoline verdi Le boccette grosse verdi Non te le chiede più Perché quelle ci vuole Solo un minuto per farle Invece devi aspettare sei ore E allora Andate a fanculo Mi passa proprio la voglia Peccato Spero l'aggionino Con dei contenuti Ingiunti Perché per ora Io lo potrei levare Ora Non lo reggo più Anche mangiare la pizza Con l'ansia È un disturbo abbastanza grave Eh Non so Farà un nuovo Zero play Su question the run Allora ragazzi Visto che siamo Proprio al ristorante Fra amici Si parla Eh Accorpali Esatto Esatto Sì Esatto Il punto Parliamo fra amici Noi siamo Mi sono reso conto Che gli zero play Funzionano Solo quando C'è il senno Di poi Ma fare un video Uno zero play Su un gioco attuale Non si può fa Ma proprio per la questione Che non si può fa Cioè lo zero play Non è una recensione Esce il gioco Fa la recensione Lo zero play È un video Che è praticamente Una retrospettiva Una cosa Accademica Fra virgolette Ma Deve per forza Avere In conto Il senno Di poi Quindi Cioè Crash 4 Lo posso fa Ho iniziato anche già Beh Lo iniziai poi Il fatto è che Lo farò Però insomma Diciamo che sto pensando Anche a un format Parallero Allo zero play Perché ad esempio Di giochi Tipo Soulstorm Non posso Fare un zero play Sosto Eppure vorrei fare Di video Quindi insomma Vediamo Vediamo Si basa molto Sul tuo trascorso Eh Esatto L'hai fatto col primo Della sto base La realtà perduta Esatto La realtà perduta Eh No della sto base Beh Della sto base Sì è vero Della sto base È vero È vero Però L'erità perduta Per me Non è uno zero play Si chiama zero play Ma non è uno zero play C'è l'opzione orologio Perché scenderà Sì C'è l'opzione orologio Perché scenderà Ma a me Mi ha rotto coglioni Lo stesso Perché diventa noiosa Anche con l'orologio Anzi Diventa ancora più noiosa Perché Li deve far subito Tutti insieme Di fila Quindi Ma Se no fai Eh Con la scusa Di parlare di Crash 4 E Crash on the run Fai Fai un zero play Dedicato al Crash In un genere Insomma Sì sì Infatti Potrei fare qualcosa Del genere Solo che Eh Sì 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 Sai No rinnovamento E tradizione Sai Cosa del genere Sì Cosa del genere Vado Vado Piangere Non ti sto Sbattendo la porta Eh sì Sì Mi stai proprio mettendo Mi sento come quelli che ti mettono il piede fra la porta Prossimo Ciao 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 Ma classi a tutti A tutti e 123 Ciao 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 Ce ne è andato Ci ha lasciato così è andato via no è ora proprio porta ma si il mio non ce la faccio sono incomodo veramente che scortese non saluta nemmeno allora senti avviamo la playstation con quale musica esatto e qualsiasi cosa farà la guarderà con fido in te Vito se ne è andata e non ritorna più è andato a prendere la statua di Gesù mi manca già Vito senza Vito è molto più vuoto e triste siamo cento e sei non va per forza chiamato zero plays out comunque si ora ragazzi devo digerirci la digestione è importante via apriamo la ps5 ci si mette una nasce dentro io mi devo andare a lavare le mani però Vito è andato a prendere il latte che si fa stasera si gioca a hot world si continua hot world ieri sera comunque non devo arrivare cioè si arriva alle 2 come ieri mi pazziate si farà un livello anche perché ciao ricorda il tonico no credo in Dio non è che non credo in Dio credo che non esiste cioè no nel senso credo che non ci sono le prove quindi non è che credo io sono agnostico quando ci sarà la prova a dire ah c'è Dio io voglio le prove ieri alla fine ha fatto si che l'ho finito quel livello ovviamente un pad bianco oliato ma infatti ora mi vado a lavar le mani io non l'ho toccato però non inizio a però i padri sono puliti perché c'ho the paper the paper però ora mi vado a lavar le mani occhio al dissing a Gesù no 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 oh se mi bannano anche perché devo essere cattolico cristiano levo quelle cabbo di mani la prova teoricamente sarebbe il creato si ho capito ho capito senti loro aderetta a loro ti fanno anche credere che non si può dire va mi pigia qui San Enrico San Tommaso io vi saluto non voglio spoiler buonanotte ciao dice Dio esiste se faccio il monello vado all'inferno non vi preoccupate ragazzi se qualcosa non va viene cancellata top 3 giochi di switch Mario Odyssey Zelda Breath of the Wild e non lo so è scelta terzo è scelta zero play su Dio Capitano Todd Capitano Todd cazzo leva la mano is the new lava la mano Enrico esiste Dio esiste altrimenti tutte le mie bestie di una roba voglio ragazzi non ce la fosse comunque per chi non crede in Dio però affascinato a questi argomenti vedete ma ovviamente ma certo che è un argomento affascinante assolutamente non sto dicendo il contrario leviamo la musica perché è il momento di avviare Oddworld io mi vado a lavare le hand madonna c'ho i carboidrati che mi girano nel sangue e fanno così a tutto po' ti prego basta canzoni se dovesse esistere non è sordo io comunque non mi steve Enrico sarebbe veramente bello un nuovo zero play speciale tipo quello di The Lost Legacy e parli degli ultimi crash moderni al 2017 ad oggi sarebbe finissimo e io avevo promesso di parlarne ma non lo so è vero io faccio promesse che poi non mantengo tranne quando si tratta di mangiare la pizza ma non lo so perché si devo fare lo so è vero ma la mia vita talvolta è errata è sbagliata degli errori li devo fixare questi Enrico la mossa di Sony di Mattia di Oddworld grazie funziona spero che si però a proposito Enrico ti vorrei su Ring Fit Adventure ma sai che lo vorrei provare perché sono curioso sono curioso di provarlo io non bestemmio sempre Enrico durante eh visto che si parla di Oddworld mi fai vedere se effettivamente è uscita la recensione su Every Eye perché sono curioso visto che prima l'avete detta ho detto che è uscito il video di Fossetti vediamo un ottimo cosa allora guarda per chi se l'è perso io vi faccio vedere questa clip mentre mi vado a lavar le mani va bene quindi vedetevi questo meglio vai a dopo a due minuti steso per terra con uno scheletro che fa così c'è lei che la guarda guarda ma io non so se io non so se mi fa ridere di più perché lui è vestito da Spider-Man perché soluzioni togli crash 4 infatti ho cammino un teccardo io lo solutio togli crash 4 e metti in cammino ma che si ma che si ma no ma si mario 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 dario ha appena detto che nella quadrillogia di crash preferisce 4 ma dario non ci capisce una sega di crash che giochi agili del cazzo che giova lui cosa ne sa dario di crash non ci capisce nulla cosa gli garba gioia alle artine falli collezionare le artine non deve gioia a crash basta che occhi ha non la posso questa serata che sei venuto qui con noi ti volevo parlare un attimo sì va bene parliamo di cosa si ma non mi interessa lo so ma poi tutti ce l'hanno verde e te ce l'hai blu ma perché quindi ho messo allora ha dato box parliamo di unciate 4 45 euro no allora meno di 45 però ho pagato 38 euro e non va bene perché che schifo 38 euro sono tante incazzata com'è la chi era incazzata prego basta urlare e poi me la dice e poi urla porca rotto è esplosivo oh si vabbè poi la gente che commenta come se fosse ufficiale è proprio una roba vergognosa non potrai più riscattare un gioco regolarmente acquizzato bella fridatura Tony rega rega sto giocando rega rega no 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 rega rega sto a gioca no rega sono rientrato lo vedi che questo gioco ti fa odiare il gioco non esiste titans io non ho mai giocato a un gioco che si chiama crash of the titans giusto per fare qualche varietà l'hanno fa ma perché incredibile mai avrei pensato che un gioco mobile sarebbe stato meglio ma banda te fanculo sarebbe stato meglio di un gioco vero e proprio della serie a serie di merda fa schifo la serie di crash serie del cazzo resa merdosa da joy di merda noi siamo dei coglioni noi pronto ciao vito ciao ma senti ma le casse le conta o non le conta no no io voglio sapere se le conta o non le conta perché le conta o no il contesto non è importante vito non fare cagate il contesto non conta non è importante il contesto vabbè le conta eh vedi allora sì sì ho sbagliato io non è cambiata nulla no lascia sta lascia sta fammi parlà ma a chi deve interessare quanti diritti interessa mister crumb no ci sono questi fam bimbi minchia quindi è giusto che gli sviluppatori dicano mettici mister crumb così fam bimbi minchia lo compro è giusto mister crumb posso già capire no io non lo posso capire mister crumb non lo posso capire mister crumb ma ci si rende conto che mister crumb l'hanno messo anche nello spot a presa di culo l'hanno messo nello spot vedi guarda c'è mister crumb vai allora sono tornato ah guarda al fossa aspetta aspetta every eye sono tornato con sua maestà l'amaro così non prendo il caffè ma prendo l'amaro vediamo se c'è il video di every eye su oddworld a presa di un non c'è qual è il video di fossetti allora oh aveva detto eh i cervi di fossetti non dovevi mangiare la pizza chi lo dite voi intendeva ah la live di ieri ah no vabbè diciamo sta dura un'ora e mezza i carboidrati cos'è madonna c'ho i carboidrati che mi girano nel sangue e fanno allora ragazzi è giunta l'ora di giocare a oddworld mi cambia nooo oh my brother e ora mi dobbiamo aspettare mi dobbiamo aspettare che il carico è giù la venita non ci fa due oh che ca oh cosa due cosa perché due ah no uno comunque vabbè dai 300 mega vabbè dai speriamo abbiano fissato diverse cose c'erano diversi buggini cambia la categoria si giustino giustino cambiamo la categoria oddworld soulstorm numero due dopo una pizza brutta oddworld no no non è new in test sono in coma carboidratico faccio anche la ho aggiornato vi torna aggiornato perché qui si dovrebbe essere aggiornato molti bug ancora hanno fixato le arachidi colturi fa vedere i tatuaggi ve li faccio vedere nella live d'estate quando vado al mare vi faccio vedere tutti e sette quest'estate saranno otto perché me ne faccio un altro a giugno faccio uno che mi attraversa il petto e la schiena grosso perché si vi faccio vedere bene i pettorali e il gruppone si hai aggiornato ok grazie 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 e vediamo se c'è anche altri aggiornamenti già che ci siamo oddworld è bello si ti fa il tatuaggio di crash si si sotto piedi mi faccio l'impronte di crash sarebbe originale vediamo se no ancora non ha finito vabbè vediamo il logo di jack and dexter aggiornamento completato vai tatuaggio grosso che ho scritto crash fk ragazzi vado perché non vorrei spare va bene va bene capisco perfettamente sarebbe lì perfettivamente fai come che ecco i tatuaggi di cadd un po' cringe diciamo la verità vabbè qui non importa rivedere oh si può schippare io vorrei sapere però se c'è il change log a sto punto vediamo un po' ma perché non c'è più scritti perché fanno così cioè sui giochi psq5 non c'è modo di sapere che aggiornamenti ci sono stati non mi guarda sta cosa contenuti del gioco no non c'è il change log avvisi no non è questo ps vita ps spelli il disco non c'è il disco sera a tutti un metro ci sarà per forza dai di per cosa è horror questo gioco no 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 vediamo se rigioca un livello per migliorare il tuo karma non so cosa ha cambiato in questo aggiornamento ma io sono un ciaffo un mi aggiornamento stasera c'è lo carboidrati che mi girano continua partita c'è il colla grazie ma lo vedi valevitis è da sposare è un assistente da sposare valevitis no vedi se hai risolto il tuo eh vediamo ma secondo me era voluto quello no tu trovato tu trovato tu trovato tu bello non c'ho mai giocato oggi te l'ho dato ovviamente tu trovato 1-9 pappa reale il temibile blimp di molluk il blimp sarebbe il dirigibile ma blimp è proprio la parola dirigibile ho messo ebbe con le spalle al muro l'unico modo per lasciare la valle del dolore sopravviene ogni noto attacco di gluc trovo un riparo per evitare fuori il cecchino del mortale adesso arrivano le bestemmie davvero sì sto menù è grandissimo sì però sono curioso di sapere se sono uscite le prime recensioni perché fammi dire su metacritic almeno perché veramente ieri mi è sembrato di carpire un certo umore negativo verso questo gioco e non va bene non va bene assolutamente su metrache solo uno dagli utenti ma è strano ma capace perché non hanno dato il gioco alla stampa ma mi sembra strano soulstorm niente non c'è voti non hanno dato il gioco alla stampa per farlo recensivo hanno finito il gioco all'ultimo e non hanno fatto in tempo ad avviare le copie questo farebbe capire un po' perché ci sono questi errorini che non sono errori gravi sono errori di mancanza di rifinitura che probabilmente verranno fixate perché il fossa è così negativo sul gioco lo vorrei capire anch'io perché è stato detto anche dal fossa ieri perché si è visto un pezzetto della live del fossa iniziava molto felì molto positivo e poi alla fine no io mi garba non ha detto così però generalmente non era un giudizio positivo cioè più che altro non gli ha dato una buona impressione diciamo io non sono d'accordo allora ragazzi io se gioco male ve lo dico subito stasera stasera non ce la fa perché a parte ho dormito poco però dire che questo gioco non ha lo stile originale cioè di odward non è vero anzi secondo me mi piace di più questo stile qui che è un po' è vero che dopo già dal menu si vede che è diverso però non è brutto togli odio sti bicchierini che per bene mi devo non mi c'è entra il naso ho cercato il caso google e ci sono le recensioni di chi da games legend salutati gioca la stampa ci sono stati problemi con le chiavi non sono state rilasciate note per la faccia 1.5 di oggi ma non è 1.5 è 1.50 non è 1.05 che atmosfera che è pazzesca esatto vero che è la 1.50 ah no 1.050 è vero la ragione ah ok odward è la perfetta evoluzione della storia di ape la nuova fatica dei ragazzi di odward in habitant porta alla saga a un nuovo livello sia grafico che ludico ha netto qualche balutone con la rigidità di fondo tipica della serie a una nuova avventura di mondocca non è più veloce fluida profonda e adulta non siamo innanzi al titolo che fa cambiare idea a chi non ha mai apprezzato questo genere ma prendiamo un gioco che toccherà ricordo il fan story perfetto recensione che ho trovato ah ok se l'avessi scritto te si sono d'accordo non so se c'è qualcosa che non va si io faccio il mio meglio Enrico manco sa leggere non sono state rilasciate no eh ho capito allora senti io stasera non ce la faccio veramente sto digerendo l'ananas non ho niente io non ho armi posso fare come faccio come fa porca non può essere così non può essere così come faccio come faccio ho dimenticato delle casse ma questi non le posso aprire ah no le posso aprire ok le potevo aprire ok non le sapevo pensavo fossero ostacoli e basta da perché non è esploso ok ok l'altro lo potevo anche possedere ci ho pensato proprio c'è il laser anche qua parca miseria oddworld è un gioco molto lento molto è fatto così non è che o ti piace o non ti piace è un gioco di strategia di puzzle lento proprio un pezzo alla porta piano piano non è per questo non è un platform anche se questo ha molte dinamiche platform che in cui via chi non c'era cioè era più lento un po' perché loro non vedano qualcosa che cazzo che cazzo qui devo usare è l'acqua è l'acqua torna e sono le svarioni non vedo ho visto? è giù? aspetta no no ti rapisce in una maniera impressionante fammi fare la storia dà lì tempo che diventerà più interessante uno stream su noi in testa è fuori questione io lo volevo fare indubbiamente se vi interessa si fa aspetta faccio la storia questo mese sei in home? no forse il mese prossimo forse almeno di una città vediamo un po' se madonna l'ho già detto che sono di fuori allora twitch mettiamo un niente non c'è un questo così questo così e quest'altro così streaming così e live now live on air perfetto vai sembra bello perché con solo sciro ps4 ps5 pc un'ambientazione non mi dice nulla rispetto a quello di niente ma perché? perché? a parte che come ambientazione c'è questa all'inizio deserto ma poi cambieranno spero non è che sarà tutto così secondo me poi non lo so anzi secondo me il primo è anche troppo a volte al chiuso ma anche lì le ambientazioni cambiavano molto quindi dipende ragazzi non bisogna essere precipitosi subito eh aspettiamo il mio peggiore incubo è tornato cos'è il mio peggiore incubo? comunque il mio intestino vorrei rigiocare e si potrebbe fare il live se vi interessa eh però non adesso lo giova da me non c'è tutta questa roba di raccogliere gli oggetti non c'era nel mio intestino dunque chi è che bombarda? non c'è che cazzo è successo? no no mi bombardano anche me? se riesco a non farmi bombarda ma che è? ma che è? ma che è? 100% per il mio intestino ci porti meta slide così c'è per Xbox e ho letto che uscirà per Xbox per ora non c'è dovrebbe uscire nel secondo quarto del 2021 quindi penso entro l'estate uscirà per Xbox però per ora c'è solo PlayStation e PC penso uscire anche su Switch sinceramente e mi scama e mi scama pura che miseria come devo fà? qui dentro dovrei... no? merda eh se entro lì dentro forse sono sicuro qui dentro vediamo un po' qui dentro ma dovrebbero non prenderli in teoria come cazzo? non posso come devo fà? come si fa? mi spara a lui? non si può fà? si può fà? come fà? non cazzo ho io bug snacks eh no 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 non si può fà? oddio ho appena finito il secondo livello questo è il terzo questo? non so come devo fà ah ah qui lo posso fare ok ah così ok nooo la batteria si sta scaricando accidenta pad accidenta le batterie di merda come mai bisogna avere le batterie che si scariano il 2021 le batterie si scariano oh il 2021 ma cosa c'è? dove c'è? le macchine volanti no dove c'è? internet si dove c'è? le batterie no provo a usare le mine effettivamente non c'è niente funzionato però aiuto madonna non c'è niente non c'è niente porco qua porco la merda ma buttala di sotto invece di picchiarli eeeh ma la posso riprende? no che coglioni c'è carboidrati che stanno cercando di sopravvivere eeeh otto mesi com'è una pizza all'anas no non mangiate la pizza all'anas un sapore che non c'entra niente non è non fa vomità se è questo che vi chiedete ma non è neanche buono eeeh apri la porta scorrevole l'ho aperta allora dov'è la porta scorrevole? questa vann oh non c'è un... non si aggrappa più? Ma cos'è sta? No Oh Porco qua No No Porto No 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 E' guardato l'all su Amazon Che? Nemmeno Enrico può salvare a che spot E' per... No non vi posso leggere ragazzi Mi dispiace Se no è finita Stato si è parlato con più di un'ora prima dai Ma se mi gioasse No mi dura sette anni Sto gioco E lo voglio giocare davvero Non mai lui è morto Ve l'avevo tirato prima Non me lo ricordo più Ho preso la legnata a lui Però addio Dove è rimasta? E' rimasta In cielo la Osen E' di ignoranza sta parte E' di Ti saluto il mio amico si è chiamato Masi di Mamuti Grazie, ciao Porca Però, però Donna, ma arriva le legnate Un c'è verso, eh, un c'è verso Ti avrete rifatto sto pezzo Sì Tu Ma è esploso qualcosa È esploso No, non è esploso Sì, è esploso il tipo Bene Aspettiamo che Caschi nella trappola Lasciamolo lì Andiamo avanti, se no non si finisce più Perfetto Grazie È morto? Sì No, non si finisce più Dai Perché non scendi Porca Anzi Porca di quella Poltrona Oh perfetto No 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 Sono crudeli Cioè è difficile Già subito alzando livello Ti perdona Stai giallo Vaffanculo C'è un verso Non mi riesce E però Devo aspettare che la vita mi si Niente Porca di quella Queste bombe che arrivano Sono troppe Su Quello sarà meglio possederlo Non mi aspettavo questa difficoltà Subito così eh Mi sta dando un po' fastidio Che altro è che Probabilmente è anche il fatto che devo Entrare bene nella meccanica Però appunto Un po' più di tempo Per capire bene O come funziona tutto C'è un po' più di tempo Per capire bene C'è un po' più di tempo Non ce la fa Sì Ormai la vita si ricarica Sì Bello No Vedi Ma arriva le bombe Non posso usare Possessione Attenzione che si crepa Cos'è se è buggato Dai 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 Buttala nel foo Buttala No Cazzo che magliana Vai nel foo e mori Bene Oh No Ottimo addio però C'è verso Come fai a fare una speedrun Attenzione forse questo forse era meglio fa così Non ci credo Non ci credo Non ci credo Eh no Sono arrivati i mastardi di là Allora facciamo così Aspetta 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 Forse ce l'ho eh Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Braitcha Eh Erci ho donna livello Toti vi è Una mia alla fine Madonna Non è normale Sì, allora però La meccanica è sbagliata Bastava mettere dietro i muri e non possono prenderti Il problema è che i muri si rompano Non posso stare in eterno Dietro i muri Però sta osa delle bombe È un po' Un po' troppo Mi chiede un po' troppo Mi sembra Ah, guarda, ti esploso Allora ti mori Perfetto Tiria d'acqua Sì Ma allora Ma arriva le bombardate Ma che devo fa' Allora Cioè Non lo so io Non so mai al sicuro Di più t'hanno richieste Non va bene sta osa Eh Allora Allora È di fiorità normale Credo No, è nel menù Comunque sì Avevo messo normale Credo, eh Non sono sicuro Ora capiamo che forza Perché anche quelli vecchi Era Perché veniva in testa È difficile Non era Questo Guarda Va bene Va bene Sì Ma non viene in scampo Non posso far nulla Che mi sparano Basta Non lo leggo più Quello lì Cosa Qui sono al sicuro No Non è cosa propria Questa È chiusa È chiusa Oh cazzo È chiusa sta porta Perché tutto Tutto sbalenato Sì Ma arriva Mamma Non sono salvo mai Non sono mai Come devo fa Non esiste Non esiste La salvezza Proprio Quanto è che sono Che sto provando A fare sto pezzo È chiusa Sì Ma allora Allora Dio Dimmi Cosa devo fa Cosa devo fa Cosa devo Cosa devo fa Non sono mai salvo Proprio Adesso 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 Niente Non ci arriva Fin qui Questo muro Ehi Ma figuriamoci Chec point Check point Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Bello che lo posso tirare anche da appoggiato, non da appeso. Non l'avevo vista sta cosa che si può usare la mina anche da appeso. Lega. Sì. Cos. Sì. 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 C'è qualcosa, eh. Lassù c'è qualcosa. Cazzo. C'è qualcosa. Continuava il percorso. C'è qualcosa, c'è un segreto, qualcosa. Sìì. Madonna come sono bravo, sono proprio bravo. Che bravo che sono. Ancora bombe No vabbè ma io mi sono fatto foglioni però No vabbè ma io mi sono fatto No vabbè ma io mi sono fatto No vabbè ma io mi sono fatto Dai vieni qui Porca No È difficile Proprio difficile My hands my hands No Dio Fisci il potere Non ho ancora visto niente Shitting Vedete ti danno nuovi missili Perché Madonna ragazzi Credevo di far furbino invece no Non lo fa il furbino con Lord Landing Ma vaffanculo Io 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 Leluia mori Mai nel po' Ora sono morti tutti Attenzione però perché qui c'è qualcosa Dio Do you hear something? Hey, is he dead? Come in from up there. What's happening? What up? I got you, I got you. I got you. It's full of secret areas. No! No! Però non son morto. No! 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 Sì Sì Ma dai Ci dovrebbero essere dei punti salvi Però Non va bene Sto sbagliata Abbi pazienza Non sei mai al sicuro Oh tutte e tre Attenzione Questa è una trofea Questa via Sì la sua mamma Su lega Sì ma Mi sto incazzando Ora divento merfossa davvero Non va bene sta cosa via Non mi puoi dar Non darmi mai i punti dove salvarmi Poi a volte Non prende il comando A volte Perché fa un cazzo Sta cosa Legalo Ecco scoppia Va bene No Brava No Oh, oh, my dad! Oh, hey, something up there, I think. There's something. Oh, my God. Ho fatto, non si sa. Perché non esplodono? Benissimo! Dunque, come posso far? Posso tirargli il coso? No, non posso tirar niente, non so per quale motivo. Dunque, almeno qui non mi prendo. Non si sa perché, ma ok. Perfetto. Io voglio un checkpoint. Oh. Vedete cosa c'è. Uh. Non c'è nulla qui? Possibile. Non c'è niente qua. Non c'è niente. Ma è strano, eh. Cioè, del... Del... Non so, è strano. Scusate se vi sto ignorando, ma sono completamente preso. Tanto. Sto ignorando. Non mi leggo. Quello è rotto. Non è rotto. Non. 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 Che cosa fa per darti fuoco? Così? I fiemme salgono però non arrivano lì, no, non è così, non è così, possibile? No. 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 Non ce l'ho più. No. Eh. No. Oh! Finito? Finito... Ah! Accogli karma negativo in un livello. Dovevo salvare un Mudoku? Dov'era? È finita, Tess! 49 minuti ci ho messo... Ho trovato 0 di 2 aree segrete... Obiettivi 7 di 8... Perfetto? 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 No, era meglio qui... Perfetto? Perfetto? Tanto era, so... Dovrei essere più veloce, non ci metto 40 minuti... Perfetto? 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 Cosa ci devo fare? Perfetto? Perfetto? Ora... Ora l'ammazzo tutti comunque eh, perché... Mi hanno rotto coglioni... Prima ho voluto far salvadori... Ora l'ammazzo tutti... Niente. ora non muoio mai si fa tutto veloce ma faccio una cazzata di 10GB si è fatta apposta eh non lo posso ammazzare questi però e non lo posso ammazzare questo e spero di io forse lo posso ammazzare in altro modo usando lui per forza non lo becco così vieni 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 più fuori dai vieni più fuori c'è un premio per risparmiare guardi c'è un trofeo che dice ammazzane solo 100 però non è un viene qui ah vaffa ufff e ah Poi Spazzino Saccheggia Ah uno di 12 Quindi secondo lui dovrei raccogliere tutti Però voglio trovare le aree segrete Oddio Se puntate tutti sul nono Eh ragazzi però oddio Ma la tua mamma vacca La conosci la tua mamma vacca Eh ma tu non è vacca Ma la tua mamma vacca Ma una fucilata mi ammazza Ma che vuol dire Che si muore con una fucilata C'è Tommy il cecchino si Ciao a tu Ciao Davide Era buona la pizza all'anas Grazie Grazie Ancora Mi ha fatto vincere almeno 2000 anzerini In più col pronostico della pizza Basta Basta Un me ne da più di sol Sfaghen Sfaghen No Però sti oseri Volanti per aria No eh Oh il morto Ok Eh Sì però oddio eh Però oddio veramente Sfaghen Ancora C'è no! ecco lo sparacchione vai! legalo! non lo lega e' che non ho un nastro adesivo ti sta facendo? si! non lo rifarei il livello appena finito se non mi piacesse no! non c'ho un nastro adesivo perchè si vede non ho arraffato abbastanza la nuova non c'ho mai No Ok Via Ecco qui c'è la porta Come fa ad aprirla sta porta? Ma non è che ci devo sonnà più avanti forse Come sia questa porta? Sì Sì Come si apre questa porta? No clue No No Come si fa? Ci devo tornare più avanti? L'apro se arrivo qui senza morire Dio santo Proviamo Proviamo Non posso non provire Provire non posso non provare Posso schippare filmato? Senza morire proviamo Se il gippato è piano Ce la faccio Allora Non si può schippare filmatini Allora Mettiamo la modalità stream Vediamo se mi conta le morti già dall'inizio No La Mi conta le morti Guarda Perfetto Pensavo mi contasse le morti totali Mudokun salvati Uno Vedi? C'ho da salvare Mudokun Però Dio No lo devo salvare Non si va avanti Finché Un progetto delle morti Devo riominciare La brutta sta cosa Sei troppo impazzia È vero È vero È vero È vero Un po' di chiocchina Mudokun Non ho Mudokun Boh Io Quando giocavo a me in testi Dicevo Mudokun Un po' non lo so Dipende da com'è Il doppiato Credo che in inglese sia Mudokun Non lo so Non mi ricordo Ma Cada Mudokun Credo In inglese E però Anche attraverso il muro Dio Mercoledì Ma non contare Le morti Dai Dai Dio Mian Destruo per volontà Già ma non ci arrivo Cosa? E lui ride E lui ride Cosa posso fare? Devo andare piano Uuuuuh Cadroia Cioè se faccio si diventa di uno sterte pauroso eh Se deve essere giocato così gioco Cazzo Bisogna essere troppo concentrati Mamma mia Meno male No Mi ha salvato il pianerottolo Vai giù No Mamma mia Porca miseria Sono tesissimo Sono a zero Sono a zero Dai non è lontano Devo arrivare a metà livello senza morire Se morivo così Se morivo così Ti uccidevo io Ok Aaaaaa Mamma mia Oddio 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 No No I miss No Non si può fare I miss Sali Non si può fare Non si può fare Non si può fare Ora mi arrivano missili in testa Non si può fare Non si può fare Non si può fare Non devo mai stare fermo per non farmi beccare da missili E non ho neanche detto che non mi becchino E non ho neanche detto che non mi becchino No 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 Non si può fare Come fa a non morire ora Come fa Non so Non so mai a riparo Oh è stordito È stordito E calo Non mi dici che mi becca anche qui perché me ne vado Andate via bastardi Andate via Qui non mi beccano La Qu'è? Qu'è Qu'è Qu'è? Cagli quella Oh zero morti Ti hanno fatto lo scherzo Però È servito a dimostrare la mia bravura Come sono bravo quando voglio Ho dimostrato abilità Però vaffanculo Allora non si Come si apre sta porta allora? Non c'è versi Come si apre Perché il Mudokun è Per forza qui dentro Secondo me non si può salvare ora Bisogna tornarci poi Che merda Serve una leva Ma non è che è la stessa leva che io Tiro prima Poi la devo ritirare Ma non credo Non credo Ci sarà un molo Devi finire Tutto il livello Stavo io Non posso andare indietro No Perché Ci deve essere un modo Porca miseria Ci deve essere un Ma la leva Ma la leva quale leva? Non ho trovato leve Dove dovrebbe essere la leva? Lì dentro Non c'è niente Perché c'è l'interazione Ma non No Solamente bisogna tornarci più avanti Bisogna far qualcosa E si apre la porta Nei vari livelli E devi tornarci Perché non si spiega E se vuole Ciao Ciao Anche Sì. E' qui davanti sto loso rosso, qui. No. Due morti. Dove trovare un'altra area segreta. No. Tu mamma va a baffa la tua mamma. Dopo un po' sparisce. No. Oh mio Dio, mio Dio. No, no. No. Che cazzo. Eeeeee. La gestione dei salvataggi mi fa ca' però. Peggio dei souls. Cioè loro vengono lanciati con le scatole proprio. Il controllo di Abe è qualcosa di... Perfetto proprio. Eh, le aree segre... Ah, devo solo 12. Senti, quando lo scopro lo scopro. Però non mi ci voglio fermar troppo. Steno. Di sicuro il modo c'è ma... Non se sa. Tiro umana. Si scoprirà. Poi si scoprò. Modi legittimi o meno. Ma lo scoprirò. Poi? Poi arte legnate le posso prendere. Siiiiiii. Papparealo Oh mer- Ha rotto coglioni Ha rotto coglioni Ha rotto coglioni Fa un po' cagare il trigger della piglia Alla sporgenza A volte mi rubutta Eh anch'io ho visto Ma te e Simo Sai come si sblocca quella porta? Sì ci sono molte sbavature Comunque D'ha l'impressione che doveva aspettare qualche mese ancora Prima di uscire Assolutamente no Vabbè è uscito ieri Ora di sicuro la gente ancora non lo sa Come si apre Ma ma spariscono Cioè dopo che le hai legate Gli spariscano Sta cosa che li devi riprendere ogni volta Non mi gabba proprio Cioè i segreti Una volta l'ha presi L'ha presi No che devi riprendermi morta Cioè cos'è Bloodborne Che poi si è una specie di vita Questa qui Perché vedi Mi ha aggiunto un pezzo giallo Alla cerchio della vita Alla cerchio della vita Ma già Stra che va No E Però Boh Mi sa che Quinto il gioco Non riesco a farlo Girare ben sul piccetto No Copia di te Ma piglia un digitale Piglielo sul ps4 Te baffanculo Posso ricliccare sul checkpoint? Che davvero? No No che non posso ricliccare Non me lo fa cliccare C'è il pallino Ma non me lo fa cliccare Non posso ricliccare Il checkpoint Sto cazzo digitale Dio Dio Sì madonna Non lo sopporto più Sto livello Senti andiamo Basta Prendiamo livello successivo Non ho più voglia Allora Volevo vedere No Cosa volevo vedere Mi vedo più Perché qui Karma 100% E qui invece 0 Perché non ho salvato Il tipo Io ho ancora Sto sistema Di punteggi Non mi ha avuto 4 segrete Are su 6 Catturato 11 su 50 Slig Che Ma cosa vuol dire Che io Li devo catturare tutti Poi per avere Un trofeo finale Sì ma col cazzo Io sono Buonanotte Oh è mezzanotte Dovrei chiudere In realtà Dovrei chiudere Perché volevo chiudere Non più Cioè sono stanco Sono Stanchino anch'io Proviamo un po' Faccio continuo Mi continuo dal livello Che sto facendo ora O dal dopo Devi arrivare alla porta Entro 3 minuti Non posso Andare al livello Su Devo rifinire questo Non posso O è la palude No la palude È quello che sto facendo Per andare avanti Devo comunque Arrivare alla fine Del livello Porca troia Porca troia Quindi ogni volta Che riavvio il livello Devo arrivare Poi alla fine Del livello Ok quindi mi conviene Falli tutti E poi rigioco Uno alla volta Piano piano Ho guardato un video Devi arrivare Alla porta Entro 3 minuti Devo arrivare Alla porta Entro 3 minuti Ma Perché Entro 3 minuti Chi me lo dice Nello gioco Che io ci devo arrivare Entro 3 minuti Proviamo Tanto Mi ho imparato Il percorso Ma perché Entro 3 minuti Perché c'è 3 dita Cosa vuol dire Ancora che ti fidi No Però Proviamo Guarda Proviamo Prova Io se voglio So giocare Lo dio Qualca troia Sono già un minuto Sono già un minuto No No Non è possibile Poffa Devo fare la speedrun Un minuto Minuto e mezzo No Ce la posso Ce la posso Guarda Sei bloccato Sei bloccato No È baggatone Sto gioco È baggatone Ma va a cagare Va a cagare Proviamo 3 minuti Da quando Tiri la leva Allora Proviamo Io Cerco di andare Sodo Per quanto Posso andare Sodo Non posso Andare Troppo Sodo La metto Non è mia La prova A tempo Di crash Si rovina Tutto Se for Così Si rovina Tutto 3 minuti Quando arrivi Alla leva E 3 minuti Dopo averla Tirata Com'era Pizza All'ana Non era Era Mangiabile Mangiabile Odward It's about time It's about Todd Ma è veramente Tommy Quello lì Con il cecchino Non l'ha visto Non mi riesce più Ma è riuscita Alla prima E non mi riesce più Che nazionalità sei Polacco Che domanda è Di che nazionalità sei Però addio Su tutto Coglione Giova così Non sa di nulla Non sa di nulla Giova così Dai Non sa di nulla Però devo finirlo Il livello Se non vuoi Accidenta A me Confermato 3 minuti Ma dall'inizio Del livello 3 minuti A cosa Dall'inizio Del livello Ma perché 1 a 6 Cioè Chi me lo dice Nel gioco Che io lo devo aprire In 3 minuti Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Sti c'hanno una mira Che mi sparano Anche se sto Va cagare Un minuto veloce 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 Non è vero sto 3 minuti Un minuto e 15 E si rovina il job Però a fallo così Ma è impossibile Si rovina il job a fallo così Prometto che non sono fan della serie Mi sono giusto una domanda L'ambitazione è sempre la stessa No Dovrebbe cambiare molte volte Anche dovrebbe essere la fabbrica Tante cose Non è sempre deserto così Aveva più senso arrivare a quel punto Siamo resi Che così si rovina il job Veramente Ma poi voglio dire Se fosse col tempo Dimmelo Se non me lo dicevate voi Che cosa me lo diceva Che dovevo arrivare in tempo lì Dove Cioè ma dai Ma sembra il livello di buono Che ho finito la serie No alla fine del job Alla fine della serie C'è un livello difficile così Va bene sto Lo sapete Ma ho ragione forse C'è il video Dico la verità Quindi 30 secondi A partita All'inizio del livello Ma porca puttana Calma Come fai In 3 minuti A fallo Non m'ha visto Io non so come ho fatto prima A fallo Alla prima Veramente Non si poffa Crash dice Forti prendendo l'opterodattilo No Vai con calma O maggio Di 35 secondi Ok Sono le spalle Bisogna di un massaggino Che via Non fa un massaggino Ma come cazzo si fa Ma come si fa Hai un massaggino E quindi vai con calma E come di Hai un secondo Per arrivare a Roma Fa un calma Io non lo so No è subito No è subito No è subito Ok No è subito Perché non l'ha? Come fa? O vai con karma o è così con karma? O vai di furia o va con karma? Non è che c'è bene in mezzo. Sono già un minuto. Sììììì ma dai ma non è vero, non è vero. 1.50 ci si fa si può affanare non si può affanare non è fattibile cioè se è fattibile non è fattibile senza esperienza devi sapere tutto il livello a mente proprio fino alla leva tutto il tempo del mondo quindi ho 3 minuti da quando tiro la leva madonna vi vengo a prendere schiaffino per uno ora 3 minuti da quando nasci 3 minuti da quando lo pigli il culo 3 minuti da quando ti dici la leva 3 minuti da quando vai a fare spesa alla hop 3 minuti da quando paghi le tasse 3 minuti da quando ti saluta Gesù la risposta è una nell'universo le domande hanno una risposta guarda il video da 3 minuti oh lo vedi che ci vuole valevitis per risolvere questo 3 minuti da quando arrivo lì quindi ho fatto tutto di fretta per niente lo dico dall'inizio ho capito mettetevi d'accordo ognuno dice se li pare rortoglioni sti laser ma rortoglioni tonna ragazzi no allora ora si fa tutto a modo basta tutto piange metto un'ora e mezza trattaberzo se sì scusa perché non si era capita l'ironia secondo te io vengo a prendere uno schiaffio però no non si può fare ma no perché non si può perché come fai è infattibile quindi si capisce che è l'ironia non credo che Gesù mi saluti in ogni modo la cosa che prendere in culo è già più plausibile purtroppo eh mi dissocia e poi no lui l'ammazzo stai sulle palle l'ammazzo lui ti prego leggi il mio messaggio sinceramente io ho inventato tutto trollato se per culo ho avuto un tonso di ciccia quindi non è vero che ci vogliano tre minuti non ci capisco più nulla va bene valevitis capito che poi sligg uccisi uno ho avuto un ucciso di zero mi dice catturato 25 sligg ahhh cattura 25 ma il totale sono 50 quindi non li devo catturare tutti basta che ne catturo 50 25 ok 9 pappe reali ma non riesco a trattare perché mi manca 0-2 vediamo se si riesce a fare un bel lavoro se vuoi farlo veramente a modo lo comprai senza uccidere no gli sligg vanno ammazzati perché sono un mercoledì un mercoledì dei ragazzi non eh Oh Credo che non lo platino questo gioco Perché mi sta facendo un cazzo Cioè non è possibile che il terzo livello Sia così Perché io Comunque c'è il trofeo Comunque bisogna finire tutti i livelli Senza Ovviamente non tutti di seguito Però c'è il trofeo Mi sparo io Magari richiede una certa Expertise che provano male I passi intorno ti sgama lo stesso Adesso ma dai Ma cosa vuol dire Toh Mezzanotte e mezza chiudo basta Non ho capito perché Perché fai il livello successivo Perché io l'ho iniziato E per far il livello successivo Devo rifinirlo Questo Perché così I livelli vanno rifatti Solo quando l'hai finiti Perché sennò Li devi rifà E quindi Ho sbagliato Vabbè ora lo so Almeno si sa che Fino alla fine Non me li ripeto più Finché non ho finito il livello Bene Va bene Poverini Mio compiando Ma capitan forte Si L'hai detto Che ha detto Auguri Auguri Comunque distorge un botto Quando io mi avvicino Appena mi avvicino così Proprio Cioè se parlo così È distortissimo Ma è sempre stato Sì Grazie Cioè auguri Volevo dire Grazie Io mi sparto Mi sparto Grazie Sì palmini ho letto Anche se ancora dati verificati Non ci sono trolle Dai Ma cosa per te ti sei ritirato nella sua seggiola Sì vabbè ma allora dillo che devo morì Sì questo è sì Però prima gioca il mio interesse Se non lo gioca Soprì per piano userà il bastone per sedersi Porca la coco l'Aida L'Aida senza apostrofo È difficile sì È difficilino È imperdonato Non perdonalo Non perdonalo Non perdonalo Cazzo sono stanco anch'io Insicuro influisce questo Ton È un'altra Il fa morì Coro lì Sì due se ti incontro dai mi ha preso al volo ma nemmeno Tommy nemmeno Tommy c'ha una mira così e Tommy è il cecchino più cecchino del mondo sii dai no fa passare la voglia sta cosa è troppo difficile fa passare la voglia davvero fa passare la voglia ora oh ah 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 Che cazzo vuoi? Oh Ma qua Ma poi una volta che ti sgama Anche se ti nascondi Non ti perde più Toh 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 Porca macchetta Qui c'è roba Che l'altro che avevi consigliato ieri è così difficile qua Le mi mentesti? Onestamente non era così difficile Però a fasi avanzate è difficile Però se questo già al secondo livello è così Poi poi sono stanco Se all'inizio il secondo livello è già così Siamo a posto Vabbè so anche io che lo sto rigiocando Non dovrei Però vabbè Sono presista io Difende Sì infatti mi viene il dubbio che abbia messo difficile Ora poi dopo si controlla Può darsi che abbia messo difficile Se ho messo difficile mi sa che è un metto normale Mi sa Mi sa Mi sa Porca Eccola la leva Però non c'è niente che ci dice che La leva Deve essere Porca troia Deve essere tirata entro tre minuti Oddio Ora io non la tiro Prima fu fuori tutti i bastardini Non c'è Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Senta a te, te li tiro tutti. Sì. E poi non li posso ricuperare le bombe che tiro. Accidenti, i moccoli che tiro, però neanche vedi li rupe. Cosa? Però è bello, eh. Perché comunque è appagantissimo. Sì, va bello, madonna. S'am... S'am... Dovemmo fissare molte cose. Hai visto i mini spot di Ghostbusters Legacy? No. Cos'è il Ghostbusters Legacy? Non c'è... Space Jam, New Legacy. C'è anche New Ghostbusters Legacy. Ma Jack and Dexter Legacy 2, no, eh. Tutti i legacy del mondo. Tron Legacy. Adesso si... Tu leghiamo tutto, artesiosa, leghiamolo, però... Oddio, che andè. Prova a ipnotizzare quelli sotto. Eh... Non ci arrivo. Perché... Oddio. Che mi arriva le bombe. L'avevo già provato prima e... Ti arriva le bombe e lo pino il cul. Proviamo qui, ma ho paura che non ci arrivi. Arrivano le bombe e mi pigliano. Come fanno a prendere le bombe dei vini? Non si sa... Eh, ora qui c'è la macchinetta. Si cagliata. Come fanno a prendere le bombe dei vini? Sì, c'è la rida. Oh, 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 oh. vai no perché un è un ne ha fatto niente sì madonna ma io vado da lor lenni lì che ma che cazzo fai non ti serve non ti serve non 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 Sì Donna mia Alleluia Alleluia Ce l'ho fatta Ammazzali tutti Porca miseria Attenzione 3 minuti A partire da 14.30 Vai Non dovrebbe essere eccessivamente difficile Cazzo La bastardata è che semmo io non posso ricaricare Porca miseria Ma non si può fa Non si può fa Aspetta forse lo so Forse lo so Non si può fare così Non si può fare così Non bisogna Forse se muori devi riferire, ci ho pensato anch'io Allora abbiamo un altro Ma che è sti così? Abbiamo un'altra possibilità perché posso stare indietro Cosa sono sti cosi? Ma cos'è? Ma non è giocabile È troppo stupido Non è neanche difficile È proprio impossibile Sì Ma è ee La scuola è Scara non ha tirato di nuovo la lega ora andiamo a vedere forse devo farci andare lo slig non devo morire forse devo arrivarci senza morire però che cazzo ma poi una volta è morto devo rifare tutto ma è fuori di testa non ha senso proprio madonna madonna accidenta a me e chi me lo fa fa l'ultima volta poi basta poi vado al letto ora vado a diritto fino lì arriva a diritto proprio tranquillo senza ma un parata a mente ormai a livello oh no cazzo in cazzo non lo guardo il video vabbè rufus adesso provo come volevo fare cose poi vado veloce però dio devo rifà tutto oh Sì. Ma poi le vienano arrivare alle bombe. Fanculo, resta lì. No, anzi. Ma non è che bisogna anche arrivare lì senza morire? Perché magari devo arrivare lì senza morire e poi farlo in tre minuti, eh. Non ho mai visto nessuno amare così tanto un gioco ammirevole. Io non è neanche la prima volta che fa così. Cioè io se ho un obiettivo in un gioco che mi piace ovviamente se era ciccio pasticcio berillo in true light the game, no. Perché cioè deve essere un gioco emigare, ve lo fa volentieri. Perché io e il New Entesty l'ho platinato, quindi anche lì ci sono le sfide ignoranti. Però non così, eh. Dalla l'avala poi ci metti 30 secondi, infatti mi sembra strano. Boh, senti. Boh, senti. Habbè. Quattro. Ahahahah! Vi ha capito che non ci siamo! Ma che f*****o? Ma bella troia? NOOOO, nel senso! NOOOO, nel senso! Ah, qui, io! EAAAAAA! Stagno in testi su 5 euro A 5 euro su stimolo consigli Sì 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 Ho trovato il tipo a salvare Sì Quello va via Poi ritorna E poi per sapere come è andato a finire Sì E chi me l'ha preso il coso Sì 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 Ragazzi Non Non fraintendete il mio Frustranzo show Con Come se non mi piacesse È bello Cioè Oddworld è bello Poi chiaramente è un gioco che o ti piace o non ti piace Ti deve piacere il genere Questi puzzle gaming Dominellini Come li vuoi chiamati Ma magari prima di chiudere vi faccio vedere brevemente in ventesti così vedete la differenza Anche la voglio vedere anch'io in ventesti Anche la voglio vedere anch'io in ventesti focusing Adesso Cioè Phest Questa Cioè Questa A Vola M Questa Ma Questa Questa E poi Se io li tiro questo Dovrebbero morire Se ora arriva la bomba Loro bruciano Eh sì Sì Che sciocco Non ci ho pensato Che scemo Bello Ho detto sciocco perché ci tassi la parola Buccina d'acqua non si rompe Se non c'è la tutta di violenza From there I don't want to I don't want to Sto andando di fuori Guarda sto andando di fuori O me osi Mi vede subito Subito mi vede Porca miseria E luna Volevo chiudere a mezzanotte Accidenta a me Io le devo fare più le live Basta Le devo fare più le live Tanto Non mi riesce a smettere prima Non sono in grado Non mi riesce a smettere a mezzanotte 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 Sì, non c'è qualcosa, non c'è ahahah secondo me ha rotto uglioni lo li eh oh man, I hate this stuff what's happening? no problem Sì! Questa non si può fa Sì Tiralo più in là Tiralo Guarda Guarda Non ci crea Quindi è andato tutto a fanculo Non si può fa Non si può fa Non si può fare Non si può fare Non si può fare Non si può fare Senti Vaffanculo Era sul normale Capito Era sul normale Proviamo Vediamo com'è Vediamo quanto è più facile Con facile Cioè io ero convinto Cioè io ero convinto fosse su difficile Vediamo Facile quanto è più facile Sì Cazzo Cazzo Che vergogna Che vergogna Potrebbe essere facilmente più facile Ma difficilmente più difficile Attenzione 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 che forse è davvero più facile Non mi sembra Non mi sembra più facile Questo è più facile Questo è più difficile Cioè ora si scopre che è facile e troppo facile È normale e difficilissimo Non mi sembra più facile Non mi sembra più facile Cazzo sì Non mi cerca più Guarda Non mi cerca più Però muoio uguale Che faccio Caio Stanco Se si accanta laser Mori automaticamente È difficile Eh mi sa di sì A sto punto Ma nemmeno Guarda non mi ha preso Ma ci ha messo di più A prendermi Quattro ore di live Anche stasera Sono pazzo 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 Questo umano Sono pazzo Poi suoni Gli urlini troncati Ma prima non l'avevo preso E' il checkpoint lì? Stupido Ovviamente è stupido Visto? Mi ha sparato ma non sono morto Così è quasi Troppo facile Ora Vabbè poi lo rimetto Di normale Per forza Le cose troppo facili Però Per questo livello È irrispito È irrispito Che Vi Perchè non ho Oddio eh Ce la mette tutta sto gioco E' fatto incazzare Veramente E' sbilanciato davvero Si è fatto di sbilanciato Belle animazioni fantastiche Allora Non c'è più la bomba Non c'è più Perché? Non ce l'ho attirata Mi son sognata Non c'è più Non c'è più Ma vaffanculo Dio ragazzi Ma vaffanculo Fa passare la voglia Però alle osse Fanno veramente Passare la voglia Dio santo Non c'è più 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 Aspetta io non c'è più Aspetta io non mi devo avvicinare troppo Vai Perché non c'è più Non c'è più Non c'è più Forse non c'è più Forse non c'è più Troppo Troppo a facile Non c'è più 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 Palle Oh mio darling Noo Si è facile Ti sgamano anche meno Gli altri Sgrotto Olè Addirittura Sarà qualcosa No Vaffanculo Lì Sarà qualcosa Qui Si però Dio Oh madonna Questi cazzo Madonna Madonna Oh Tutti i cestini Dio ragazzi Che palle Eh ma c'hai la mamma picciona C'hai veramente Ma che Fa passare la voglia Questi missili Fanno passare Veramente la voglia Perché sanno proprio Di Gio Stupido Sanno proprio Di Gio Fatto Senza considerare Che stressi la gente Un meccanismo del genere Ci ho capito Deve essere difficile Però Devo Devo Bestime Alla fine Morto Meno male Sono morto anch'io No non sono morto Sono morto Non c'è Non c'è pietà Non c'è pietà Proprio Proprio Almeno fammi vedere Un'ombrina Fammi vedere Che sta arrivando Lì Non è che se io Sento il fischio Capisco che mi sta Arrivando addosso Hai visto L'hai visto Mi sgama Anche a quasi Battarato Questo Joey Non è definitiva Assolutamente La difficoltà Battarata Perché Va bene Va bene Ma Cioè Sembra L'abbiamo Nemmeno provata Ovviamente Cioè È facile È messo A facile Che Gli Ré 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 Oh ragazzi non mi posso più Mai più finchè io finisco il giorno Non ne ripeto nemmeno uno Nemmeno se mi pagate Non ne ripeto più finchè io finisco Sa che già uno ha altro Te sei lì a fatti i cazzi tuo tranquillo S'arriva il missile Io io boh Tipo ma cosa ci vuole A farli uscire quando devono uscire Invece di farli uscire prima del tempo Ma non è possibile Oh cazzo a ste cose Come devo fa Se sto lì mi spara Se non sto lì arrivano razzi Se non sto di là mi spara Ma come devo fa E' iniziato ieri il gioco Se arriva la fine o se arrivano Arrivare l'esercito a casa mia Mi spara Se devo fa So io eh Ma che vor di farli in questa maniera Cosa vor di Falli o si Cosa vor di Mi sta facendo un cazzà A facile E' messo a facile C'è che io non lo so E' iniziato a fare No! Dio Vado 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 Di tutto Di tutto c'è Madon No Io Troppo difficile Ma Cioè Nemmeno non è difficile Non è difficile È sbilante Non è Non è Non è Non è come dovrebbe essere Ma Come devo far Se sto lì mi spara Se non sto lì arrivano razzi Se non sto di là mi spara Ma come devo far È iniziato ieri il gioco Se arriva la fine O se arrivano Arrivano Un esercito a casa mia Mi spara Se devo far Perché Sono imbecille Sì La bottiglia è rimbarza Dio se è Della San Benedetto Ho questa Portiglia Portiglia è rimbarza Oh no Guarda Ho trovato tutto Sì 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 Come cacca Come 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 Non ti vedevo le ganco Ora 25 25 Aia Dovebbe essere finito Farò una man Fin sui mesi Con i vintesti Hanno fatto tutto per bene Mi pare che quindi Avrei continuato così Ma a me non è che dispiace Sì Che a me mi piace Stato sai Devi lanciare le cose L'acqua Mi piace È che probabilmente Doveva essere Un po' più Un po' più studiata La curva D'apprendimento I misili Sono a goccia E ti fa morire Perché quel fiume Del sottofondo Continua di estremo Allora Ce la fai A venire qui Vieni qua Vieni qua Accidenti Al pippo Sì Vai a cagare Vieni qui Ragazzi Ragazzi Oh 5 soli però Quindi ho fatto tutto A parte Le slig Che poi Slig uccisi 20 Su 50 Ma io non ne ho lasciati indietro 25 C'è 30 Dove sono gli altri 30 che non ho ammazzato? Io non l'ho mica visti C'è qualcosa che non torna Non è che ne ho lasciati indietro 30 Non mi torna Dove sono gli altri 30? Vabbè basta è finito Non li ripeto più i livelli finché non finisco il gioco Prima si finisce la storia Poi si fa il completismo Fuori live Via si va a letto Mi dispiace da un'ora e mezza Cioè un'ora Uno e mezza Ve lo chiude A mezzavatta e mezza Ve lo fa vedere un minutino Ma veloce proprio 27 minuti Comunque è meglio di 40 minuti di prima Perfetto Obittivi 7 di 8 Obittivi 7 di 8 Non è pieno di bug Che via Continua Ah vabbè la funivia però lo chiudo Chissà come gira sulla 5 Sulla 5 gira così Perché sono sulla 5 Flex Ah Noi in testi Scattava sulla 4 Ma no Non lo so Ora si prova sulla 5 Credo giri uguale Perché A me mi riovo di scattarsi Sinceramente Io l'ho già sulla 4 Forse sulla 3 scattava Che c'era anche sulla 3 Il mio in testi Forse scattava Sulla 3 No non scattava sulla 4 Dai Vabbia Cioè la 4 se lo mangiava Oh guarda l'ambientazione è cambiata finalmente Vai domani si vede questa ambientazione Mi garba già di più È molto più Ricorda molto di più il primo Bello Dai dai mi piace questa ambientazione Come fa a scattare su PS4 Infatti non potrei scattare Finalmente niente Fium La funivia Sei giunto nella relativa sicurezza Della valle del dolore Nella relativa sicurezza Ma il tuo percorso è bloccato Dai resti pericolanti Del vecchio complesso minerario Dovrai farti strana Nella valle per continuare Ci sono ancora Ci sono anche tracci di buco Nella zona Vedi cosa puoi fare Perché ci sono 24 a salvare Quindi qui inizia il gioco Effettivo Quindi finora erano tutorial Perché qui ci sono tanti mood Con da salvare Usciamo E vi faccio vedere Velocemente Il mio entesimo Ma proprio velocemente Allora Vai Qualsiasi cosa Su un anno Stanno saranno le missi Tutta forma Non scatta Sa aver preso il PS4 Perché non partono Sono dettagli C'era sulla PS3 È certo che c'era sulla PS3 Era un gioco Principalmente PS3 E PS4 Era cross-gen È stata una live Sì Infatti sono contento Siamo ancora più di 70 L'uno e mezza Con Oddworld Quindi anzi Io ero convinto Che Oddworld Non interessasse a nessuno Invece Chiari sera Fino a tardi Sera più di 100 Allora Questi sono i miei Salvataggi storici Difficoltà bassa Difficoltà normale 18 ore Un'ora è qua Questo non so cosa sia Salvatore Messia E di che comunque Già dal menu Eee Jarvis Ciao Ti conosco Apparecchius E sei molto bravo Continuo così Ho anche una foto Fatta con te Una fiera Dove Grazie Dove Si è fatta la fiera A Ludicomics Di sicuro O a Romics O a Luca Comics Non ce n'è altro Comunque Vedi quanto Lo stile Di Oddworld È questo Perché Newintesti Eh si Oddworld 1 Exodus Quegli altri C'hanno tutti questo stile Qui Nel menu Mentre il Soulstone Sembra più Naughty Dog Per dire Comunque non so Se caricarne uno Oppure no Io non voglio caricare Nessun salvataggio Facciamo Partiamo da zero Hello Hello Il menu di Oddworld È questo Il menu di Dei vecchi Oddworld È questo In sempre Discorso Discorso Che in realtà Sì Vabbè Qui ci sono I vari tasti Tutti voi Attenti Sì Comunque tra le traduzioni Fatte col culo Sono anche qui Perché ciao Seguimi Attenti Tutti voi Everyone Everyone è tutti voi Tutti Fischio 1 Flatulenza Fischio 2 Ah ecco Hello Follow me Follow me Wait Wait All of you 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 Tasto per correre Salto laterale Cos'è salto laterale Bellini però sti menu Extra cosa c'è? Classifiche Sì vabbè Ah un'ora e quaranta Perché qui il massimo di Mudkons sono 2,99 Infatti erano 300 i Mudkons Spariti Vabbè le classifiche sti cazzi Palle bisogna Bisogna essere competitivi Bisogna essere Bisogna picchiassi Ah questi sono filmati I filmati del Gio domani me li riguardo tutti I filmati vedi che c'è scritto Player Che in realtà è il lettore Vabbè sì ok Facciamo gioca vediamo Difficoltà Per giocatori che preferiscono Vedersi il panorama Invece di schivare i proietti Le denti Una garbata introduzione a Odward La nostra scelta consigliata Impegnativa ma ragionevole Come madre natura vuole Niente di troppo esagerato Ma ti serviranno A quei punti di controllo Per Mudkons che hanno già completato Odisi Questa è giusta per voi Slig Che non sbagliano un colpo Creature lecali Retali Trappole mortali Salute classica Salute classica Cosa vuol dire Salute classica No parlano inglese Salute classica Vabbè facciamo normale Ma tanto si fanno Giocatori singoli Sì Con la classica trama Per giocatori singoli Alternate i miei panni di Prendete un controllo Per ciascuno Ah vabbè sì No Non volevo Vabbè Pazienza Salvataggio veloce Quick save Che non c'era Non c'è Nel sosto Rannicchia Ti usa Salta Con sta salute Quindi è abbastanza uguale Tena game speak Lancia Lascia cadere Mi la lancio Vediamo un po' Qui vedete anche un po' La storia La storia di Oddworld Inizia qui Quicksave utilissimo Sì Madonna bello Non me lo riordavo Sì Gli ampianti di macellazione Loro sono schiavi Che lavorano in un'impianto Macellazione Perché Si su questa è una La storia di un'impianto La storia di un'impianto La storia di un'impianto Mi whole life changed In just one day I was working late one night At Rupture Farms We used to make meach munchies Until the beaches were through We still made Parabite pies And we made some good Scram cakes too I thought I had a good job But that was before I knew How we'd make new and tasty Un nuovo snack Un nuovo snack Che avrebbe fatto Tutti impazzire Uno snack In new and tasty Anche nell'originale Si chiamava new and tasty Vedete che i dialoghi Sono in rima The gluckans Were scared Because profits Were grim Paramites and scraps Had been turning up thin As you can see Things are going to What? I don't like What are you going to talk about it? But Mollet was cool Show him She had a plan But who's the hell? This new kind of meat? What? It was us Mudo co Praticamente lui scopre che I padroni dell'azienda Voglio fare uno snack Con gli schiavi Avevo notato Ma pensavo fosse un caso Ma Valditis Veramente Non gli sfugge niente Gli usando i mullochini Di solso Non è spettacolo Si Però forse capisco Cosa intendeva Fossa Che effettivamente Questo è molto più cartoon Non me lo ricordavo così Facciamo velocemente Molto più cartoon Effettivamente Però non è vero che È brutto Sostro Assolutamente E poi chi usano Per lavorare Fa I robot Le macchine Tutti i personaggi Li doppia Lornland Ma credo Nell'originale Non so se in questo Li doppia Oh il controllo Attenzione Ah ok Ok Non c'è il sarto libero Quando si pare Non c'è il doppio salto Sì sì Questo mi ammazza No Ok Sì Il controllo è molto più Più grezzo Sì molto più duro È proprio un 2D Fammi vedere se Quella roba Che avevo visto Comandi Tasto per correre Salto laterale Cos'è? Tasto per correre Ah perché lui Cammina Ah ok Lui cammina Fisso Come nel gioco originale Credo E per correre Devo pigiare E se no Il tasto laterale Ah ok Il tasto laterale Non il tasto Sul posto Ok No una brutta stosa Nell'originale Credo fosse così Bello che si può scegliere Anche come Gioare In antico D'acqua operativa Vai via Modalità cooperativa È semplicemente Che ci sarà Un punteggio Per ogni personaggio E quando mori Passa al giocatore 2 Come nella modalità Multiplayer Di crash Di merda Perfetto I tasti sono uguali Ok Oh le leve Le leve Le leve Entrare nelle porte Vedete il tutorial Scritto così Vai Oh Directory Ah La cosa E qui aspetta Perché ti dice Quanti mudo Ci sono da salvare 299 Nello Zulag 1 Ce ne è 70 Però ancora qui Non so Quanti ce ne sono Impiegati Sì Sì È strutturato Molto più schematico Aia Sono morto Si casca di sotto Mi ricordo Che c'era Che c'era un segreto Subito all'inizio Del gioco Non mi ricordo Dov'era Un segreto Insomma Una stanza Non mi ricordo Dov'era Mi sa che l'ho Già passata Posso ripartire Di ricaricare Ricaricare il livello Per esempio Qui ci sono I quick save Che sono utilissimi Anche perché il gioco C'ha molti rallentamenti Che praticamente Io pigio Questo qui Vedi mi ha fatto Il quick save Pigio il pad Centrale E mi ha fatto Il quick save Un altro Io tengo pigiato E mi ricarica Il quick save Vedi Tengo pigiato E sono di nuovo qui E questo è comodissimo Sono qua Poi muoio Ripigio E li sono subito qua E il quick save Effettivamente Mi manca In In soulstone Però nell'origine Non c'era Quindi Allora devo aspettare E' qui il segreto Il segreto Insomma Devo aspettare Che lui torni a dormire Qui la botola Cazzo è molto più schematico E' tanto più schemato Le bombe che si raccorgono Nel distributore E' vero Come si tira Non mi ricordo più Uguale Ah la devo raccogliere Anche Ti scoppia Non mi ricordo più nulla Veramente Lui la butta qui La devo raccogliere E poi la tiro Si E rimbarza No preferisco di più Il gameplay di soulstone Anche se è difficile Quanto ti pare Però lo prefisco di più Rimbarza Le bombe Questo Donna È difficile È difficile Più questo ID Disposto Più carte schematico A bestia È proprio Un gameplay Molto più antico No Stai accanto Stai accanto Cazzo Ho visto i modi Che sono sotto Io ragazzi Oh Morto Eccoli là Questi sono tutti in modo Come io Faccio così E li salvo Infigati 291 Evasi 8 Quindi per tutta la durata Del gioco Lui ti dice quanti Ne sono morti Quindi se questi qua Morivano A parte questi non potevano morire Però Restavano lì Per tutto il gioco Mi diceva che Ne era morti 8 Poi sempre di più Sempre di più Che belli suoni Sì Sì C'è proprio un altro stile Però Non è vero Che è meglio Questo di Soulstorm Sinceramente Cioè Sono diversi Oddio Eccoci Morto Però c'è il checkpoint Sono apparso qua Lui non lo possa ammazzare Aspetta C'è la leva Sì c'è molta più ironia Forse Di Soulstorm Almeno per ora Vedi ho attivato la leva Ho aperto qui Per esempio Ecco Io mi ricordo Vedi c'è un modokun D'asse Da Da salvare Perché vanno salvati tutti Io mi ricordo Che se tiro la leva Lui casca di sotto Ora faccio un quick save Ti faccio vedere Tiro la leva Lui casca di sotto E' morto Vedi Deceduto uno Quindi per salvarlo Devo levarlo Di lì Quindi lo chiamo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ecco Vedi E così Vedi L'ho salvato Lui mi viene sempre dietro Io poi Attenzione È morto È morto Bellissimo Quindi vieni qua Vieni qui Piano Sono morto io E non è morto lui Quick save Ovviamente Vieni va Stupido Non devo mai Lasciare il tasto L1 Sennò si svegliano Appena lascia andare Si svegliano Poi trovi Quell'altro E quando vedi L'uccellini Vuol dire che c'è il portale Quindi pigi L'altro portale Sembra uguale A quello di Jack and Dexter E loro si Si salvano Vedi Quando vedi Cosa circolare Di uccelli Sennò E' bellino Si Però è morto Antico Uccellini Una fuga profonda Non ho fatto un tempo Bellissimo Directory ti dice la fabbrica La mappa Ti dice dove sei Si comunque questo non si può definire un platform In questo video Mentre Il soft storm si Questo non è un platform Assolutamente Attenzione Perché poi è tutto così E' tutto schema dopo schema Con Enigmi Devi salvare il mudokun Sempre E per quello quando Si è iniziato l'ultimo livello Ho detto Ah qui inizia Inizia il jogo Perché c'erano 20 Quanti erano da salvare E sono curioso Vedi come Perché ad esempio Ora c'è tizio lì Che non spara Lo devo Devo tirare la leva Quando lui è qui sopra Visto Non ricordo A cosa serva Questa bomba Vir rossa Ah ecco Mi furmina Se uso il canto Perfetto Esattamente come Le geggini rossi Di Di soft Perfetto Oh allora Ma ti svegli o no Perché non mi Non mi caga lui Oh alleluia Attenzione eh No madonna Mi sta prendendo già subito Fermo lì Fermo Eh però Dio L'ha ammazzato Vabbè ormai è morto Cazzo su E praticamente il jogo è così Se te riesci a non farli morì Fino alla fine Hai un finale buono Credo Non li devi salvare per forza tutti Se lo vuoi platinare Li devi salvare tutti Però per aver finale buono Devi arrivare tipo entro buono Devi far morì Non più di Della metà Credo Non lo so Se mentre ne fai morì Più della metà C'è il finale cattivo Devi star lì Più vicino Rispetto all'altro Ma questi cosa fa Ok la bomba Lì Io tra l'altro Posso anche tirarci gli oggetti Il assassino Mi sembra Per farli morì anche Tira leva Perfetto Bellissimo Il suono è lo stesso Di Quell'altro Vieni Seguimi Oh seguimi Coglionito No io me ne devo andare Perché io non mi devo salvare E anche lui si è salvato Cioè È molto schematico Però funziona L'odore della carne bruciacchiata Non assomiglia Per niente Non si fa tempo A Amici a bestia Nel fumo non ti vedono Nel fumo non ti vedono Sì Perfetto Andiamo avanti piano Nel fumo non ti vedono Ragazzi Mi sta venendo voglia di giocare tutto Scusa Attenzione Attenzione Follow me Oh Eh Mi devo avvicinare Troppo Perché io mi devo salvare C'è un altro qui però Ok Ok Eh Vabbè senti si va a let Tanto si è capito Vedi qui c'è la bomba Di ieri Merda Merda Ma perché lui non mi segue Howdy 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 Sì Vabbè basta Dai C'è un mudoco nel fumo Eh vabbè ragazzi Basta Comunque è bellissimo Mi viene Dopo aver fatto Soulstorm Lo rigiovo tutto Perché si Abbandona E effettivamente Soulstorm È Diverso Sì Però Fammi rivedere Velocemente Però Comunque ce lo vedo In Oddworld Diciamo che è più cupo Non è che è brutto Assolutamente Non è vero che non è elegante Perché questa Non è che sia Eleganza È semmai più Più scansonato Più 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 umoristico Più cartoon Però È bello Magari È un po' troppo difficile Vedi già Così Il tono È molto più cupo Però Vedi il fatto Che puoi muovere L'occhi E comunque C'è quell'ironia lì Magari Piano piano Si libera Giocando Quante ore dura Visto c'era Scritto 18 ore Ma è durato Per platinaldo La partita Quindi Questa è tutta Un'altra cosa Vedi Cioè È già più platto Guarda come si controlla Bene Però È Il gioco E sempre Lui si vede Devo provare Devo provare Sono in fase In fase analitica Se giuntola Ok Leviamo quest'osso Che mi fa Cà Zorro Valle Devo vedere come Sono fatti In modo Un documento Che poi La voce Non è la stessa Non lo so Però Le correggine Non si possano Un po' Un po' Cambiati i comandi Un po' Più semplici Forse Però il controllo È tutta un'altra cosa Il controllo Questo è un controllo Vero Questo che Mi intesi Cioè Oddo Il vecchio È Ed è il remake Figuri Eh Ma è l'originale Non l'ho mangiato L'originale Che è I don't know I don't know Che devo fare Bellissimo Questo è proprio Platform totale Stai Controllo Ah vedi che i punti controllo Sono uguali A come Non hai un bel aspetto Sono arrivato qui Rimattino E' un po' Ci sarebbe molto Un po' Che sarebbe Un po' Perciò Sobba Perciò 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 Problemi di traduzione Gravi Proprio Ma lui quindi Mi deve seguire Ti hai prenduto Per guarire Ti servirà Un antidoto Attenzione Vedi che è molto Meno immediato Del No basta 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 Si giova domani Si giova domani Basta Basta Però Secondo me È ora Inizia proprio Il gioco Peccato Che il livello Che si è fatto Oggi Era troppo Difficile Buonanotte Ragazzi Grazie Per la serata Lunghissima 5 ore di live Domani Si sta 2 ore Spengo Spengo Il computer Dopo 2 ore di live Buonanotte Il controllo Su PS1 È peggio Infatti Non lo voglio Gioco E Sicuramente Si è stato A livello Buonanotte Ragazzi A domani Grazie a tutti La pizza Era buona Sì Sì Super Pizza Due Wear Sì C'è Sì Sì E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più.